Benvenuti a tutti, questa è la puntata milanese, pubblico milanese, no, non del tutto, adesso iniziamo ad affrontare nuovamente alcuni degli aspetti che possiamo collegare a questa ultima opera di Corrado, che è un'opera in parte che si collega all'origine, quasi a chiusura di un cerchio e senza troppo indugio passo la parola a lui che aveva già la mente in fermento, sai qualcosa per iniziare e salutare il pubblico. Aiuto, sì, quarta puntata di questa specie di tour, di presentazione di questo testo che in realtà va oltre la presentazione di un testo che vi offre in mente, ma come ho detto in altre tre situazioni precedenti, questo rappresenta un po' un ritorno in qualche modo alle origini, cioè questo testo è stato scritto 90 anni fa, sostanzialmente sono passati tanti anni, dall'inizio della situazione è passato circa un quarto di secolo, 25 anni, perché noi dobbiamo essere qui a riparlare di una cosa di 25 anni fa? Io credo che bisogna chiarire questa cosa subito, perché se no mi accusano di predicare bene e di razzolare male, noi viviamo nel presente, dobbiamo vivere nel presente, abbiamo capito che esiste solo il presente come sovrapposizione di due equazioni che sono le equazioni della quantistica, una che rappresenta il passato, una che rappresenta il futuro, che si sovrappongono in un unico punto esistente, questo dice la fisica quantistica e la quantistica termodinamica, quindi esiste solo il presente. anche se noi per un istante siamo smarriti di fronte a questa cosa e pensiamo ma come ora torno a casa a provare delle fotografie? Oh, quelle sono le fotografie del mio passato, ma allora il passato c'è o non c'è? C'è la fotografia, sì c'è la fotografia del tuo passato, ma quella fotografia te l'hai portata dal passato al presente, quindi ce l'hai perché è nel presente e chiaramente questo che cosa vuol dire? Vuol dire che quando ti guardi una fotografia del passato, la analizzerai sempre e ti sembrerà sempre diversa da come l'avevi fatta, passano gli anni e te la guardi e dici come ero strano allora, come ero diversa allora, ero più magra, di solito succede così, ma in realtà dietro quella ero più magra c'è un'altra cosa, c'è il fatto che tu non ti riconosci più a livello tuo coscienziale con quella cosa che eri prima, perché quella cosa che eri prima non c'è più e nell'istante in cui si dice non c'è più vuol dire che non c'è mai stata, perché se noi viviamo nel presente ed esiste solamente il presente, nell'istante in cui in qualche modo noi modifichiamo il presente, esso va a modificare il passato virtuale ed il futuro virtuale, se è vero che esiste il passato, il presente ed il futuro su un'unica linea, si dice poi solamente che il presente è quello che virtualmente dà origine alla realtà virtuale, a questo tavolo, a questo microfono e tutto quanto, noi sappiamo che la nostra coscienza e la nostra consapevolezza ha comunque un suo riflesso nel passato e nel futuro, questo tipo di riflesso io penso a 10 anni fa, a quando ho messo le dita nella corrette 10 anni fa e voi direte ora si capisce perché c'è tutte quelle cose, lo penso in un certo modo, se lo stesso pensiero invece di fare 10 anni fa, lo facevo 5 anni fa, quella stessa immagine, la vedevo in modo diverso, perché? Perché io oggi sono più rincoglionito, sono più vecchio, ho l'Alzheimer e quindi mi ricordo male le cose? No, non è così, questo è per il medico, per me o per la persona che si interessa di quantistica è il fatto che tu hai acquisito una consapevolezza e una coscienza diversa, quindi comunque quel tuo passato lo stai vivendo ora in un modo completamente diverso, noi ci eravamo resi conto di questo fatto, la prendono a lontano ma poi arriva questo discorso, quando abbiamo, facevamo le ipnosi allora, cominciato a capire che in ipnosi quando facevamo regredire, ed è un termine sbagliato che usa Ericsson, ma ora sappiamo perché, regredire il soggetto al suo passato mentre veniva preso dall'alieno, ci eravamo accorti che potevamo modificare quello che stava succedendo allora, nell'ipotetico passato, cioè noi prendevamo l'addotto e gli facevamo fare resistenza, cioè gli facevamo dire cosa sta succedendo, sta venendo l'alieno, è passato attraverso il muro, mi sta prendendo, mi sta portando in una sua macchina volante, benissimo, dopodiché reload, facevamo riavvoggere il naso dei ricordi, tornavamo all'inizio, te sei sempre nella stanza da letto, benissimo, entra lui l'alieno, entra dal muro, benissimo, e lui mi riparte da capo e io gli dico bene, scusa ma non gli potresti rialzarti dal letto e gli dico scusa ma perché non vai a far culo stasera, non c'ho voglia di venire con te, torna domani, abbiamo fatto anche così e lui lo faceva e l'alieno rimaneva nel ricordo che veniva proiettato fuori ed attraverso solamente del soggetto all'apparato locale, veniva estruso a parole, lui lo faceva e l'alieno rimaneva sconvolto, bloccato, non capiva cosa succedeva, tornava indietro, rientrava nel muro e se ne andava, quindi sembrava non solo essere riusciti a modificare qualcosa del passato, ma quando si tornava al di fuori dell'ipnosi nel presente, ecco che si erano cambiate le carte in tavola, se era cambiato il presente, questo è un loop, ma questo perché l'avevamo potuto fare? L'avevamo potuto fare perché il passato è copresente con il presente, quindi noi nel nostro presente avevamo modificato un ipotetico passato che coesisteva con noi, perché se il passato era veramente passato è col cavolo che io lo potevo modificare, così potevamo modificare anche il futuro, a questo proposito il problema della visione dell'ordine post-ipnotico, sapete che nei film a volte c'è l'ordine post-ipnotico, nei film ti mettono le sott'ipnosi e poi ipotizzano il soggetto che nel film dice te andrai da tizio e lo ucciderai, quando io ti telefonerò nei film gialli del 1950-60 c'erano queste scene, dove te vedevi che a un certo punto accadeva questa cosa e poi succedeva qualcosa per cui tu però non ammazzavi mai chi dovevi ammazzare. C'è un motivo sostanziale, mi ricordo un caso in cui un soggetto addotto, uscito dal problema ormai in tanto tempo, racconta, aiuto, ogni tanto c'è un condensatore che si scarica, vedo la scarica del condensatore, così, fa così, te dici ma chi se ne frega, ma secondo me mi hanno fatto un culo così a fisica 2, me lo ricorderò per tutta la vita. Questo soggetto qui in ipnosi parla della sua parte animica, parla della sua parte animica e la sua parte animica dice eh sì, non vengono più ora, non verranno più, benissimo e io gli chiedo allora, ma questo contenitore, quanti contenitori hai ancora? Allora stavamo studiando l'idea del numero dei contenitori, sapere quando finiva l'universo, eccetera. Ah questo è l'ultimo, ah come l'ultimo? Eh sì, questo contenitore è l'ultimo, ha ancora poco tempo, come mai? Eh lei non sa guidare, cosa c'entra? Eh lei non sa guidare in quel giorno, in quell'ora, in quel momento, in quel punto, un incidente di macchina e lei gira a destra, invece deve gira a sinistra, eh eh, e dico ma è il camion, gli vanto sul camion e questo contenitore è l'ultimo. E dico scusa poverina, proprio ora che ha capito le cose non si potrebbe allungargli la vita. Ah sì, si può? Sì certo, basta che te lo vuoi. Ah sì, e come si fa? Eh beh, pensa a un evento diverso, per esempio invece di farla girare con l'automobile a destra, farà girare a sinistra. Ah sì, sì, ora lo faccio. Qualche attimo di silenzio. Eh no, anche a sinistra no, perché c'era un palo, poverina, eh no, è l'ultimo contenitore. Io lì dico poi. E mentre sto cercando di risolvere il problema, la parte endometrica mi risponde. Ma non si potrebbe non fargli prendere la patente. Dico certo. Ah va bene, allora è fatta, lei non prende la patente. Io continuiamo l'ipnosi, esce dall'ipnosi, ne prendiamo tutto quello che si era descritto, eccetera, eccetera. E lei mi dice, finisce così, dopo una settimana mi telefona e mi dice, sai, ho deciso di andare a scuola guida, eh, bisogna che prenda la patente perché non ce la faccio più, posso farmi accompagnare sempre adesso a sinistra. Io dico, ah no, eh, chiede, c'è il sito, va bene, prendi la patente. Dopo due settimane mi telefona e mi dice, ma lo sai, non sono mica a portata della, ho deciso che la patente non la prendo più, non l'ha più presa la patente. Ecco la mia. Allora ecco che noi dal presente riusciamo a controllare sia il passato che il futuro, non solo l'ordine post-ipnotico. Non è un ordine che io ti do a te e te poi lo eseguirai. Non funziona così. Questo è un vecchio modo di vedere le cose. Quando te prendi la parte animica, la porti in uno stato di regressione ipnotica profonda e gli dici, domani mattina alle 11 e mezzo, comporrai questo numero di telefono, mi telefonerai, mi dirai buongiorno, ma te non sai perché. Sei d'accordo? Sì, sì, benissimo. Poi la tiro fuori dall'ipnosi. In quell'istante lei non ha costruito, io non ho costruito un ordine post-ipnotico che lei eseguirà, lei ha costruito il suo futuro, l'ha costruito e l'ha messo lì e quando arriva a vivere il suo futuro, lo vive e fa quello che lei ha deciso. Non è un ordine post-ipnotico, è stato un istante in cui io, che sono il creatore del mio universo, ho creato il mio futuro. Così funziona. E da te. Questa è solo la parte animica. Pensate che cosa può fare la parte animica, mentale e spirituale insieme sotto forma di coscienza. Ecco, i loop sono questi, i loop temporali, noi in qualche modo ora stiamo tornando a parlare di una vicenda di 25 anni fa. Ma sapete come finiva quel libro? Quel libro finiva con questa frase che sono andato a rileggere perché io non mi ricordo più come avevo scritto allora. E la frase finale è, noi riusciremo a risolvere il problema degli alieni quando tutti acquisiranno consapevolezza di questo problema. Porca puttana, ma è la stessa cosa che dicevo oggi, che dico oggi, ma allora non avevo la consapevolezza di che cosa voleva dire. Ora so che cosa voglio dire, ma lo sapevo anche allora. Come mai ho comprato il primo libro di ipnosi, di auto-ipnosi quando avevo 15 anni, su una bancarella? Ho detto non so questa cosa mi serve, però lo metto nel cassetto. Perché? Perché in realtà tutto è copresente con il presente e in quel momento del mio presente di allora, io inconsciamente dentro di me stavo già vivendo l'ora di ora, l'esperienza di Valerio Lonzi. Ed in questo contesto il passato, il presente e il futuro non ci sono. Ma quando noi torniamo, finalmente riarrivo al loop, cioè a parlare di quello che è stata la nostra esperienza che è cominciata tutto da lì, dal caso di Valerio Lonzi, da quando abbiamo, sono passati 25 anni, siamo tornati indietro. Il loop può essere tornare indietro e ricoprire lo stesso punto, oppure tornare indietro e salire un pochino in più, cioè scendere un pochino in più, cioè non tornare nello stesso punto di partenza. Da un punto di vista di entropia vuol dire che nel primo caso l'entropia è uguale a zero, cioè non è cambiato nulla. Nel secondo caso l'entropia è aumentata, perché diminuire non può. In questo universo c'è il secondo principio della termodinamica che ti vieta di tornare scemo. Al massimo rimani scemo come sei, ma di più non ci torni indietro. Questo è fondamentale, perché io pensavo fino a pochi giorni fa, fino all'altro ieri in realtà, che non ci fossero problemi, che l'entropia aumentasse sempre. Mi sono dimenticato che in realtà l'entropia può rimanere zero, cioè ci sono delle persone che io conosco che sono scemi e sono rimaste scemi e non ci posso fare niente, capito? Questo però mi fa pensare che comunque tutti poi avranno un'acquisizione di consapevolezza in qualche modo, però mi stupisco ancora di come la gente rimanga sostanzialmente ferma a certi punti e non riesca a superare determinati ostacoli. Ed è sempre un problema della propria volontà, comunque, perché è una scelta personale. Ho fatto la scelta inconscia di rimanere cretino e non c'è niente da fare, lui non lo sa, te lo vedi, lo capisci, non glielo puoi dire, perché deve fare il processo di avvenzione di consapevolezza. In questo contesto, quando noi siamo tornati indietro a parlare di Valerio Ronzi, la storia di Valerio non ci appare mica più come era prima. Quella frase che io ho scritto, l'ho scritta io, sembra che l'abbia scritta io sapendo quello che so io. No, sapevo un'altra cosa, io per consapevolezza intendevo un'altra cosa, intendevo un bel giorno arriva l'alieno, io mi accorgo che c'è l'alieno, io lo frego e dico scusa, è te, sei un alieno, io mi sono accorso di te, ora ho acquisito consapevolezza, sono diventato come te, te non mi puoi più prendere perché sono un tuo simile. Vai a prendere quelli peggio, messi peggio di me. Questo era il significato che io gli davo allora. Ora do un altro significato a questa cosa, ma perché? Perché la mia etropia sicuramente un pochino, magari poco, ma è aumentata. Quindi io torno a parlare di questa cosa perché c'è un significato preciso. Il postino bussa sempre due volte, l'assassino torna sempre due volte sul luogo del delitto, si dice così. No, te in qualche modo io rivivo attraverso l'esperienza della riedizione di questo libro i ricordi di come è cominciato tutto e li rivivo perché mi sto accorgendo che questo è l'istante in cui tutta la storia è finita. Ora, in questo istante, mentre noi presentiamo dopo 20 anni e passa questo libro, lo ripresentiamo, lo riguardiamo, lo rileggiamo e comprendiamo tutta la strada che abbiamo fatto, sappiamo esattamente che non siamo tornati al punto di partenza, perché ora abbiamo esattamente capito che quella frase, ci vuole la coscienza per liberarsi degli alieni, ha acquisito un significato superiore, ci vuole la coscienza per fare tutto. L'alieno in fondo è uno dei tanti malanni che noi abbiamo e che ci siamo autoprocurati. Questo è un po' l'inizio. Ecco perché siamo qui a parlarne questa sera di questa cosa, non perché io voglia tornare indietro e ricantare la solita canzone dopo 25 anni, come potrebbe fare il famoso cantante americano di cui si diceva prima, Dean Bertin, ha fatto una canzone solo e l'ha cantata per 50 anni. E che caso, cambia canzone ogni tanto. Squadra vincente non si cambia. Squadra vincente non si cambia, ma c'è qualcuno che per esempio con una squadra perdente come Pinotti non l'ha ancora cambiata e sta ancora a parlare Uco. Si starà vincendo in un uomo. Volevo sottoporti una domanda che ti ho già in qualche modo fatto in privato la volta scorsa, mi piaceva condividerla anche con tutti gli altri. Faccio una piccola premessina. Questa domanda un po' mi sorge anche dal parallelismo che si può notare rispetto alla tradizione del buddismo Bonn, dove esiste questo loop, esiste questa circolarità. La causa e l'effetto nella tradizione è un po' considerato il karma e nel buddismo Bonn chiamano questi meccanismi tracce karmiche. La traccia karmica si attiva, genera un loop che ritorna, quando si ripresenta a causa delle situazioni contingenti, la stessa traccia karmica che tu hai come fatto un buco, fatto un solco, quindi tendi a ricaderci dentro. In quel momento esatto, secondo il buddista Bonn, la persona ha la possibilità di liberarsi di quell'elemento che lo stava un po' bloccando, stava creando un loop in un senso di stagnazione. Il problema è che, per noi occidentali sicuramente è un problema, che per il buddista Bonn se tu rifai quello che avevi già fatto la volta scorsa, riconsolidi la traccia karmica. Se tu invece decidi di non fare quello che hai fatto la volta scorsa, riconsolidi la traccia karmica comunque, questo a noi disturba un pochettino, perché secondo il buddista Bonn, quello è il momento in cui si può prendere coscienza e dissolvere la traccia karmica nella chiara luce, queste sono le espressioni che utilizzano. È molto carino, anche un po' astratto, costringe ad attivare parti della mente che non sono robotiche e appunto mi faceva sorgere quell'altra domanda che ti ho fatto che nel momento in cui noi ci accorgiamo che una parte di noi, chissà dove, aveva già pianificato questa cosa, quindi addirittura era come se tu già sapessi tutto e il tuo è un percorso verso la consapevolizzazione di una cosa che già da qualche parte sapevi e anche questa è una cosa che in tanti luoghi della tradizione esoterica un po' viene detta, però nel momento in cui tu hai preso coscienza, questa è una domanda che dopo non avrà un'altra in seguito, nel momento in cui tu hai preso coscienza cambi, cambi il modo di vedere le cose, cambi tanti parametri, se vogliamo in questo modo, amicizie nascono, amicizie muoiono, ogni volta che uno fa un cambiamento coscientivo cambia il suo livello di sintonizzazione, però mentre questi cambiamenti avvengono molto rapidamente, se vogliamo quasi un lampo, l'illuminazione, l'intuizione, la comprensione spesso ha caratteristiche del lampo che ricorda il fuoco di Zeus, in questo senso è molto rapida, però nella sua manifestazione esteriore c'è un delay, c'è un ritardo, un ritardo che potrebbe essere incentivato, agevolato da una condotta distaccata come direbbe un buddista o fluida come direbbe Castaneda, ma può essere invece al contrario bloccata questa esomanifestazione di questa nuova costatuzione o consapevolezza da quelle che sono invece delle dinamiche automatiche come delle regole, delle consuetudini sociali, io lo direi quasi un'identificazione in un ruolo, se tu ti identifichi in un personaggio, tu dici che sei quella cosa, anche quando in fondo hai cambiato, rischi di rimanere impigliato in tutte le conseguenze relazionali che hai già in qualche modo creato, no? E sì, aggiungi pure. Grazie. No, sì, questo mi ricorda la teoria degli acidi e delle basi art e soft, perché la teoria degli acidi e delle basi, chi ha studiato un pochino di chimica, ma anche in generale sa che si occupa un po' quelli che gli anche, no? Sui due aspetti della realtà della chimica, la categorizzazione o sei a destra o sei a sinistra o sei un acido o sei una base, ma gli acidi e le basi si sapeva in chimica che reagivano tra di loro, no, non è così, all'inizio si pensava che gli acidi fossero delle cose, mettevi una cartina attorno a sole dentro una soluzione e diventava rossa, poi questo riceveva un certo arredio, solo con la barba bianca, dell'Ottocento, poi è arrivato un certo Bromsted, il quale ha detto no, ma bisogna vedere se siamo in acqua, siamo in acetone, siamo in etere chimico, qual è il sorbetto, qui cambiano tutte le cose, poi è venuto un signore che si chiamava Lewis che ha detto no, cosa c'entra, non c'entra niente, sono gli orbitali, orbitali pieni di elettroni, orbitali vuoti di elettroni, non è che gli altri hanno sbagliato, ma io vi dico con una formula più semplice che cos'è un acido di base, poi è arrivato un signore che si chiamava Pearson, il quale ha detto no, non è vero niente, sì, orbitali pieni, orbitali vuoti, la bisogna vedere come sono fatti questi orbitali, che grandezza ci hanno, ecco, in quell'istante te capisci che lo stesso tipo di problema viene analizzato con le tue cognizioni e mentre te hai un certo tipo di cognizioni, l'altro che viene dopo avrà un altro tipo di cognizioni e userà un altro vocabolario, quindi solente ci si incasina la vita, il nostro problema è arrivare in fondo al loop e partire all'inizio che non sapevamo niente, fare un percorso in cui ci siamo veramente incasinati la vita con un certo numero di spiegazioni e arrivare in fondo con un'unica spiegazione in cui abbiamo capito tutto, cioè all'inizio e alla fine siamo sempre felici, ma prima non sappiamo una mansa e siamo felici, poi sappiamo come siamo perché abbiamo consapevolezza di noi e siamo felici, allora il problema, io cerco di ridescriverlo in termini molto semplici, il problema del karma si può ridimensionare, si può ridefinire in un certo modo, certo, esiste o non esiste il karma? No, non esiste, come non esiste? Non esiste nel senso che siccome esiste solo il presente, siccome l'universo non è locale e esiste tutto in un unico istante, io in questo istante sono quello che mi faccio il karma, riuscire a dire io non c'è il karma per cui io decido di fare quello che mi pare, è come dire che sicuramente non c'è un percorso predestinato che io devo fare e arrivare a quel punto e solo a quel punto come la fermata dell'autobus, dove si prende l'autobus ha la fermata dell'autobus, mica lo può prendere a metà percorso, è uguale, allora se prendo l'autobus bene, se no devo aspettare un altro giro di autobus, ecco questo era poi il discorso, in realtà noi siamo in una situazione in cui noi siamo i creatori dell'universo, l'autobus si ferma dove voglio io a questo punto, solo che ci hanno insegnato sempre che non è così, ci hanno insegnato che te devi prendere l'autobus alla fermata dell'autobus e te giustamente mai ti è venuto in mente che fai così e quando arriva l'autobus in mezzo alla strada ti fai e l'autobus si ferma e ti fa salire? Non l'avete mai provato? Non l'avete mai provato? Cazzo, provate, provate, magari non vi funzionerà perché non siete convinti, però provate, perché io una volta dissi a un signore, eravamo in un congresso, è un convegno a Roma, allora questo mi porta in macchina davanti alla sala dove c'era sto convegno e si cominciava a dire, per caputano non so come fare, a trovare il parcheggio, ma come non sai come fare? Te lo dico io come fare? Pensa che troverai il parcheggio davanti all'entrata, eh sì, davanti all'entrata, ora arriva avanti all'entrata, se ne è andata una macchina non ce l'avessero, cioè perché eravamo convinti che si poteva fare, si può fare, quindi l'aspetto del karma è in realtà, non è una miniatura, non è una sciocchezza, ma è legato a quelle che hanno le cognizioni antiche dell'uomo primitivo che comunque capiva delle cose fondamentali e una delle cose che l'uomo primitivo capiva era che dentro di sé sapeva che il tempo era circolare. Cosa vuol dire il tempo? Ma allora è una minchiata sta a fare il tempo circolare? No, il tempo è quantisticamente circolare, il tempo non è lineare come la gente pensa, probabilmente anche all'argentron collider, no, il tempo, e si dimostra in fisica quantistica, mi dispiace per il large electron collider, che è circolare. Questo che cosa vuol dire? Che il tempo è fatto di una isocrona, cioè una 2πr, una circonferenza in cui tutti i punti hanno lo stesso tempo, solo che questa circonferenza noi la vediamo come se si dilatrasse tutto, 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 e noi vediamo una circonferenza solo alla volta, quindi non è che c'è, è la circonferenza di prima, non c'è più, non solo non c'è più, ma non c'è mai stata nell'istante in cui io vivo in questa circonferenza. E quindi, da questo punto di vista puramente ideico, simbolico e geometrico, il fatto che il tempo sia circolare ha fatto credere dentro di sé agli antichi che noi dovessimo, e tra questi c'era anche Sant'Agostino, un percorso di ritorno indietro. E Sant'Agostino era quello che diceva, per carità non diciamo che il tempo è circolare, se no ci siamo fottuti Dio, perché? Perché Dio ha perdonato l'uomo, se il tempo è circolare l'uomo li pecca, e cosa fa? Dio lo deve riperdonare? E siamo rovinati, ci facciamo una figura di merda, quindi il tempo non può essere circolare. Ecco, però gli antichi lo sapevano, avevano l'idea di questa circolarità del tempo, solo che non era una circolarità che poi Sant'Agostino con grande terrore aveva cercato di carcellare, perché era sconveniente pensare al tempo circolare. Anche noi stiamo tornando indietro a parlare di Valerio Lozzi, del primo momento, dell'istante in cui abbiamo cominciato a interessarsi di queste cose, ma non stiamo percorrendo più quella strada, non ci stiamo più neanche ricordando di che faccia di Valerio Lozzi. Cioè, è talmente… vi è mai capitato, per esempio, a qualcuno di una certa età, io sono anzianotto, magari si può ricordare di una ragazza che aveva all'età di 18 anni, no? Io a 18 anni, noi dicevamo, io magari lasciamo perdere, che insomma devo recuperare, però un ragazzo normale avrebbe detto, della mia età, a 18 anni la mia prima fidanzatina, no? Oggi lo dico, la mia prima fidanzatina ha l'età di 3 anni, quindi è cambiato qualcosa nella vita, però il concetto, tenete conto, è sempre lo stesso. Cerca di ricordarti la faccia di questa ragazza, non ti ricordi a volte come era vestita, a volte qualcosa, ma il volto non te lo ricordi più. Ma come non te lo ricordi più? Lo sai perché non te lo ricordi più? Non te lo ricordi più nell'istante in cui quella cosa lì, quella persona lì, non è più nella tua realtà, cioè te te la ricorderesti, se mai un giorno rimanga la probabilità che tu la incontri, ma nell'istante in cui tu non c'è più nessuna probabilità, dal punto di vista probabilistico, che tu la incontri, quell'evento lì non si è mai realizzato e siccome non si è mai realizzato, te hai l'esperienza del ricordo dell'evento, ma non hai più l'immagine della realtà dell'evento. Questa è una delle cose che terrorizza le persone. Dopo che sono morto cosa succederà di me? Mi dimenticherò tutto. No. O che terrorizza soprattutto la parte femminile di noi, perché sono le femmine che guardano l'album di fotografie, le fotografie del matrimonio. Il maschio se ne fotte. Hai mai visto un maschio che guarda le fotografie del matrimonio? Vieni caro, guardiamo le fotografie del matrimonio. Che palle, è tremenda. No? È così. E vabbè poi c'è, cara guardiamo queste fotografie del matrimonio. No, vabbè, per carità. E' la parte femminile che è legata all'asse del tempo, che è legata alla parte animica, che è quella che ha un'idea del tempo totale, cioè passato, presente e futuro, come in realtà è insieme, quindi è lei che ha bisogno di guardare, perché è un ricordo in cui la femmina di solito si incarna. Che cosa vuol dire togliere i ricordi alla femmina? Togliergli l'identità? Ma se io non mi ricorderò più della mia esperienza? Mi dice la dotta, come faccio io dopo? Chi sono io senza i ricordi? e te gli devi spiegare, un addotto maschio non me l'ha mai fatto questo discorso, un addotto femmina sì, te gli devi spiegare che lei perde i ricordi dell'esperienza, ma una cosa che non può perdere mai in eterno è l'esperienza stessa. È come se tu sapessi suonare il pianoforte ma non ti fossi ricordato di essere mai andato al conservatorio. Così funziona. Non ha nessuna importanza la realtà virtuale. E questo ci fa dire che in realtà un ipotetico karma era l'idea che gli antichi avevano di un universo che era temporalmente circolare, ma di cui non avevano preso bene il significato. E la paura che fosse veramente circolare nel pieno senso della parola aveva fatto cancellare a Sant'Agostino quest'idea, perché siamo rovinati. E negli stati in cui Sant'Agostino cancella l'idea del tempo circolare a favore di un tempo lineare, Sant'Agostino dice che non esistono gli antifotoni. Pensate, Sant'Agostino entra a gamba tesa nella fisica quantistica moderna e dice che non esiste l'antietropia, non si può tornare indietro nel tempo, non ci sono gli antifotoni, esistono solo i fotoni. Non solo, ma il secondo principio della termodinamica lo chiamiamo disordine. L'universo si sta raffreddando, si sta sistemando, tutto si sta mettendo a posto, bene quello è il disordine. Come il disordine? Non era l'ordine, no? È il disordine perché il tempo non è circolare. Perché se il tempo fosse circolare, l'entropia potrebbe anche tornare indietro, ma se l'entropia torna indietro non va avanti, quindi l'universo non evolve. E siccome l'universo si sta raffreddando, e l'universo era la creazione di Dio, i preti della metà del 1800 hanno visto nell'universo che stava morendo e che stava raffreddandosi un segno negativo e hanno dato a questa accezione un significato negativo, cioè il disordine. L'universo che si raffredda, l'universo che si tranquillizza. L'entropia è la misura della coscienza. La coscienza sta aumentando proprio perché l'energia del sistema aumenta. E che cosa se ne deduce da tutto questo? Che Sant'Agostino non voleva che gli uomini diventassero coscienti. Questo? Forse neanche Sant'Agostino si è reso conto di questo fatto qui. Tornare da Valerio Ronzi vuol dire in qualche modo accettare quello che noi eravamo qualche tempo fa. Accettare che noi siamo passati attraverso un momento in cui di aduzioni non se ne capiva niente. Io non ci capivo niente. E il tentativo sicuramente ancora molto interessante di quella analisi che noi abbiamo fatto su questo ragazzo ci fa capire sostanzialmente che in questo lupo che noi abbiamo fatto, cioè io sono il mio karma, io decido quello che ho fatto e se torno indietro e vedo quello che ho fatto, ho fatto delle cose tremende. Cioè certo la gente può essere d'accordo, può non essere d'accordo, io ho una realtà mia personale che mi sto creando, voi avete la vostra realtà che mi state creando. La mia realtà, nella mia realtà ci sono tre o quattro punti banali che vale la pena sottolineare che sono quello che ho sostanzialmente detto negli ultimi tre o quattro anni e soprattutto negli ultimi due. Uno, non esiste il principio di indeterminazione di Heisenberg, Heisenberg è andato premio Nobel, cancellato. Non esiste la teoria della relatività, cancellato. Non esiste la gravità, il bosone di X cancellato, cioè X, Einstein e Heisenberg, tre premi Nobel, via, finiti. Noi siamo i creatori del nostro universo, noi ci autoguariamo, c'è un'autoconsapevolezza da cui noi dobbiamo passare, cioè l'universo crolla, se questo fosse per caso vero, l'universo crolla, crolla perché nell'istante in cui la gente comincia per caso a pensare nello stesso mio modo, domani mattina invece di votare alle urne, a Renzi mi sputo nel chiasmo ottico. Ma Renzi poverino non c'entra niente, è solamente il rappresentante di uno che in qualche modo fa da specchio a me, perché siccome io sono il creatore dell'universo, l'interno e l'esterno non esistono perché l'universo non è duale, quindi Renzi è l'immagine speculare di una parte di me che non ha capito. Quindi io se sputo nel chiasmo ottico a Renzi in realtà sto sputando nel chiasmo ottico io, in qualche modo, io non mi posso lamentare perché ci ho messo quella gente lì al governo, ce l'ho messa io, e perché ce l'ho messa? Lo sapete perché noi ci mettiamo certe persone al governo? Perché ci hanno promesso che avremmo potuto continuare a rubare tranquillamente, questa è la realtà del popolo italiano, però c'è un senso positivo in tutto questo, che veramente ci fa capire che noi siamo i creatori dell'universo e che il tempo è circolare, ma nell'accezione che abbiamo detto prima, qualche cosa cambia sempre sostanzialmente e proprio prima come prima non ci si arriva mai, ma c'è un parametro che cambia, che è il parametro coscienziale, cioè la coscienza aumenta sempre, torni a rivisitare lo stesso loop e lo rivisiterai in modo differente. Il parametro fondamentale che mi fa capire come la coscienza del popolo italiano stia aumentando è che la gente ha smesso di andare a votare e quando il 99,9% degli italiani smetterà di andare a votare, credo che non saremo come dicono i politici in mano a gente che si disinteressa della politica, ma alle persone che hanno capito che l'unico partito importante siamo noi stessi e ognuno vota per sé, perché è in questo punto che si comincia a dire voglio creare il mio famoso mondo felice, che cos'è il mondo felice, non è un mondo emotico che rido, come qualcuno potrebbe pensare, è un mondo in cui uno vive in armonia con sé stesso e in armonia con sé stesso ci vivi solo se noi non abbiamo più nessun governante. per introdurre un'altra domanda che volevo farti, mi tocca ricordare un attimo fa e mi sembra che ti sei contrattento, perché hai detto da un lato che siamo noi che creiamo diverso, perché non siamo più come eravamo allora, adesso non c'è bisogno di parlare di karma, perché adesso siamo più del genere, poi per un attimo dopo non ce l'hai fatta e hai detto, malgrado quello che magari pensate voi, il tempo in realtà è circolare, quindi in realtà non erano così intelligenti, giusto? Non lo siamo. Poi vado a notare la raffinatezza dell'arte che è precipitata in maniera vergognosa e non lo dico, è una cosa che è abbastanza evidente, la qualità dei dettagli, delle costruzioni di ciò, l'attenzione, la qualità dell'attenzione. Oggi trovare una persona che pone cura soltanto in quello che cucina è diventata una cosa molto rara, quindi sembra che quello che prima istintivamente qualcosa all'uomo, come succedeva nel caso del tempo circolare, riusciva a contattare questa parte che sa e portarla nell'esperienza di vita, adesso sembra che ci sia un problemino, perché in qualche modo le persone danno per scontato di essere intelligenti e essere evolute, ecco questo aggiungi pure, vai. La so. Dunque, io sono sempre un po' anzianotto, quindi penso al 68. Il 68 fu un anno di grande rivoluzione, io entrai in una distanza 69-70 e c'erano un movimento studenteschi, qualcuno che veniva buttato giù dalla finestra da qualche poliziotto incauto, insomma ti sparavano per la strada e gli studenti cercavano di fare casino. Non mettete dei fiori nei vostri cannoni, c'erano le canzoni di questo tipo qua, gli hippies, hoodstock, quella roba lì. Movimento che è fallito totalmente, perché questo movimento più o meno giovanile aveva avuto l'idea intelligente che le cose dovevano cambiare, che il mondo non doveva andare più in quella direzione e quindi si doveva cambiare. Questo movimento ha preso il via forte perché tutti sentivano in realtà, anche inconsapevolmente, che c'era qualcosa che non andava e quindi bisognava cambiare le cose. Il fallimento del 68 è legato al fatto che non c'è stata la possibilità di fare il secondo step, cioè sì, tutto è sbagliato, però nessuno è stato in grado di costruire un modello alternativo di società. In quel momento invece tenete presente che ora noi, che abbiamo capito che abbiamo cambiato delle cose, dobbiamo proporre un modello alternativo, reale, cioè che si può fare, virtualmente reale, della società moderna. Ecco che questo mondo felice noi lo dobbiamo dire come si fa, dobbiamo far capire alla gente che si può fare. Nel 68 c'era il cosiddetto periodo dell'incomunicabilità, soprattutto tra genitori e figli e anche tra ragazzi giovani, i quali non riuscivano a comunicare tra di loro. In realtà quel movimento lì, quell'istante lì, non fu un movimento in cui un istante, un periodo in cui la gente non sapeva comunicare, era un periodo in cui si era accorta che non sapeva comunicare e quindi questo aveva fatto sottolineare nei comportamenti delle persone questa mancanza di comunicabilità. Quindi in realtà il fatto che ci fossimo accorti della mancanza di comunicabilità era un passo avanti nella comunicazione, perché se non fosse stato così l'entropia sarebbe diminuita. Allora oggi noi ci dobbiamo chiedere ma come? Ma guarda in giro, a me mi sembrano scemi, a me, a me mi, che non si dice, mi sembrano scemi. Cioè io dove ho un corso di 50 persone, quando avevo un corso ancora più grande di 250 persone, io facevo allora chimica organica e scienze biologiche e c'erano 250 persone di davanti. Il 25% capiva qualcosa, gli altri no, non capivano più o meno niente. Per quale motivo? Per una serie di motivi. Se io oggi rifaccio un corso con 250 persone, sostanzialmente invece il 25% è il 26, il 28%, forse il 30% di persone che capisce, quindi sono aumentate. Ma l'impressione generale che la gente capisca di meno è che perché l'altro 70% non capiva meno un po', tu capisci un cazzo. Cioè in realtà quindi totalmente l'entropia aumenta sempre, ma quello che te vedi dal punto di vista statistico, a secondo di come tratti i numeri, ti sembra che la gente sia veramente rincoglionita. E ti devi chiedere perché. Quindi vi voglio rassicurare, noi stiamo andando avanti, non possiamo tornare indietro e neanche ci possiamo fermare. In realtà ci potremmo fermare, da un punto di vista teorico l'entropia può essere anche zero, però è raro che si sia questa cosa. Cioè è solo scrivibile a formule, perché la probabilità che dopo un loop tu non abbia capito niente, 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 magari una sciocchezza che ti sembra quasi niente, sì, però un pochino l'hai capito. Quindi l'entropia che è uguale a zero lo toglierei, lo escluderei a priori. Perché la gente ci appare più rincoglionita? La gente ci appare più rincoglionita perché sostanzialmente mentre molti di noi cercano di acquisire consapevolezza, chi comanda si sta accorgendo di questo fatto e chi comanda è chiunque. Il potere temporale della chiesa, il potere politico, il potere militare, il potere economico, l'alieno, quello del piano di sopra, chiunque non vuole che l'umanità capisca. E allora siccome si stanno accorgendo che invece noi piano piano stiamo comprendendo, ecco che i mezzi di dissuasione cerebrale per farti comprendere meno stanno pigiando sull'acceleratore. Quindi invece una volta ai miei tempi c'erano quattro canali televisivi, ora ce ne sono centocinquantasette. Il mio telefonino prende centocinquantasette canali televisivi. E te, canzo, quanto ne prende il tuo? 225. Pazzo, sei più canzo di me perché il tuo telefonino prende più canali televisivi di me. Cosa dai da mangiare al tuo bambino? Una merendina con tre cereali, solo tre cereali. Il mio bambino c'ha la merendina con cinque cereali. E infatti il suo bambino con cinque cereali diventa più scemo. Cinque volte più velocemente. Cioè, te cominci a comprendere che c'è qualcosa che non va. Che questo non è il mondo felice. Il mondo felice è un mondo. Non ci sono cereali. Capito? Non ci sono merendine. Come mette? Pane e salame. Cioè, non voglio dire, forse sostanzialmente salame sano, non fatto con nitrigi dentro, magari, che se no è la fine. Però, allora cosa c'è? Ecco, il governo cerca di importi la stupidità e te la impone facendoti credere che è la scienza che avanza. E quindi la scienza ti permette di avere tre telefonini, mentre prima dovevi urlare, tu figliolo in campagna, vieni, che ora di pranzo? Oggi ho i telefoni. No? La mia collega, qualche mese fa, del dipartimento, per chiedermi una cosa, mi ha mandato una mail. Hai capito? C'è il corridoio e poi c'è il suo studio. Mi ha mandato una mail. Cioè, capite che c'è qualcosa che non funziona. Ma non è il problema della comunicazione, della non comunicazione. Il problema è che per non far capire alla gente, per non fargli prendere consapevolezza di sé, c'è un unico sistema, tenerla separata, tenerla divisa, dividerla in tutto, categorizzarla in tutto. Quindi, dentro di te, la tua parte animica, mentale, spirituale, devono rimanere staccate. Perché se per caso, Dio non voglia, si riuniscono, è la fine. Che cosa dice il Papa? Il Papa, poverino, un bravo uomo, dice, non affidatevi a percorsi di autocoscienza. La vostra coscienza deve passare attraverso la figura di Gesù, scritto sul giornale. No! La coscienza deve passare attraverso di te. Sei te, Gesù. Sei anche te. Sei tutto quello che è esistito e anche tutto quello che non è esistito. Ma perché la Chiesa fa questo tipo di discorso? Perché così, facendo di passare attraverso una serie di regole e di legge, ti divide. Perché dice, se te sei dentro le regole, sei buono, vai in paradiso. Se sei cattivo, vai all'inferno. Ti ha diviso. E invece, se te gli dici, mi dispiace, guarda, non esiste né il paradiso dell'inferno. Perché sono due creazioni sostanzialmente della Chiesa. In periodi storici diversi sono state create queste cose. Eh, ma allora la Chiesa non serve a niente. Hai capito? Non serve a niente. Non serve a niente. E ci sono, è facile. Perché nel mondo, quello che sarà poi il mondo felice, si capirà subito quali sono le cose che non servono a niente. Scusa, te passi davanti a un ospedale. Domani mattina l'ospedale non c'è più. Te te ne accorgi. Prova a passare davanti a una caserma. Domani mattina la caserma non c'è più. Non gliene fortuna mazza a nessuno. Anzi, siamo tutti più contenti perché non spendiamo i soldi per andare a sparare a chi? A Gesù. Non lo so. No? Ecco, si capisce subito se una cosa serve o non serve. Lei elimini e guardi quello che succede. Se non succede niente vuol dire che non serve. Per esempio, noi abbiamo il Senato. Non si può eliminare il Senato. Te credi che se ne accorge qualcuno che domani mattina il Senato non c'è più. Si possono eliminare un sacco di altre cose. Pensateci bene e vedrete che si possono eliminare. Ecco, quelle sono le cose che nel mondo felice non ci saranno più. Non servono. Che dire? Non si può rinnegare il passato, per esempio. il passato non va rinnegato. Perché? Perché il passato non esiste. Io allora ho fatto degli errori nella mia vita. Non è vero. Io non ho fatto nessun errore. Perché? È più caso di tutti. No! Perché gli errori non esistono. Errore o non errore? Percorso giusto e percorso cattivo. Io ho fatto quello allora che credevo giusto e corretto. Che la mia coscienza mi diceva di fare. Quindi, che allora non è stato un errore. Oggi, quella allora non esiste più. Quindi io comunque non posso tornare indietro e dire fantasticamente io farei... se fossi così farei in un altro modo. Perché te stai portando... stai facendo una cosa che non si può fare. Portare la tua coscienza dell'ora nel passato. Passato che non esiste e che non è mai esistito nell'istante in cui tu sei qui ora. si possono fare... ma quello che rimane è l'esperienza. Quello che rimane dell'esperienza di Valerio Lonsi non è il racconto di Valerio Lonsi. È l'esperienza che io mi ricordo quando tornavo a casa la sera, che ero disperato, perché mi sono venuto i capelli bianchi lì. Quando pensavo a questo povero ragazzo che raccontava in ipnosi tutto quello che gli avevano fatto. E io lì ho detto, io ho messo le mani in un cineprano, io ho messo le mani veramente nel casino. Lì io non so come fare. E non sapendo assolutamente... perché ora io sono in grado di mettere in ipnosi una persona in 40 secondi. Allora non ero capace. Mi ci sono voluti due anni e mezzo di ipnosi per capire il 3, dal 3 al 5% del problema delle aduzioni. dal 3 al 5% due anni e mezzo. Capite che c'era qualcosa che non andava. Questo qualcosa che non andava io posso capirlo ora, solamente ora, perché ho fatto l'esperienza di quella cosa lì, perché io devo essere quello che faccio. Perché se non faccio l'esperienza non capisco. Quindi una cosa che comunemente la gente chiama errore, bene io devo fare l'esperienza dell'errore, perché se non faccio l'esperienza non capisco, non capirò mai. E quindi il mio errore qual era? Era quello di credere che Valerio Nonci fosse un caso per trattare. E io cosa facevo? Io ero un ganso, io ero l'ufologo italiano, il numero uno che fa le ipnosi regressive. In Italia ci sono solo io, in Europa eravamo due. Un'altra era Carla Tarno, poverina che è morta subito, facciamoci le palle. E' andata così. In America c'erano 4-5 persone, sono crepati tutti, non c'è rimasto più nessuno. John Mack l'hanno messo sotto con l'automobile, Bad Hopkins, poverina, è morto un po' di incoglionito, di vecchiaio. fine, fine. Per cui io ovviamente… No, voi ci pensate, però io capisco che la storia di Valerio Nonci è stata una storia che a me io ho sofferto in quella cosa lì. Ho sofferto e non capivo perché. Ho sofferto perché io non capivo che in quell'istante ero Valerio Nonci. Cioè Valerio Nonci era quella figura che mi specchiava a me, era una parte di me che mi stava dicendo delle cose. E che cosa mi stava dicendo? Guarda che tu attraverso questo problema che studierai comprenderai chi sei. Perché tu stai facendo una ricerca e la ricerca, qualunque essa sia, è l'immagine speculare di una cosa che sei te. Te stai cercando e tutti coloro che fanno la ricerca, tutti, anche quelli che cercano dove è lo zucchero al supermercato, che è una cosa difficilissima trovando, vicino all'acqua minerale, ve lo dico io, cioè lui c'è da un cazzo, lo mettono lì apposta. Quando voi cercate qualcosa, voi state cercando voi stessi. Perché c'è solo una cosa da cercare, non c'è tanta letteratura da fare, c'è solo una cosa da cercare. Chi siamo? Quindi anche quello che cerca nel bosone di X è la particella alfa, beta, gamma, delta e tutta la vita passa a guardare, c'era una naturalista che conoscevo tanti anni fa, che passava le notti in laboratorio a guardare negli occhi le cavallette e la pigliavamo tutti per il culo perché questa guardava negli occhi le cavallette, per capire cosa c'aveva dentro la testa della cavalletta, non lo so. Voleva durla. Ma non lo so, ma il problema fondamentale era che lei dentro quella cosa stava cercando qualcosa, che è come è fatto l'universo. Ma sei te che hai fatto l'universo, è te in tutte le ricerche stai cercando te stesso, questo è quello che succede. E io con Vadello Lozzi non mi ero accorto che in qualche modo la mia sofferenza era che non avevo capito che stavo cercando me stesso. Quando l'ho capito, sono passati 20 anni, 25, alla fine ho anche capito una cosa che non mi sarei mai aspettato, ovviamente. Per questo quando torno a rivedere questo loop, rivedo questa cosa come fosse un momento importante della mia vita, perché è cominciato tutto da lì sostanzialmente. Io rifacendo questo loop sostanzialmente vedo che a me degli alieni non me ne frega niente. Cioè alla fine il discorso è chiuso, oggi con le altre tre puntate che abbiamo fatto in altre tre città festeggiamo una cosa fondamentale, festeggiamo la chiusura del problema delle aduzioni. Il problema alieno è risolto, si sa come fare e lo facciamo. C'è qualcuno che non ci riesce ora, ma ci riuscirà fra un po', non c'è problema, il problema è risolto. Questo vuol dire dopo 25 anni essere qui a riparlare di quel testo lì. Far comprendere alla gente che l'alieno è un problema che nell'istante in cui l'abbiamo risolto, abbiamo capito a cosa ci serviva. Noi abbiamo creato la figura dell'alieno, che è l'interno nostro, non è che è un miraggio, noi siamo i creatori del universo e ci siamo sottoposti alla nostra stessa creazione. Io sono il creatore, creo il coltello e dopo mi taglio col coltello per vedere che cosa ho creato. Io sono la creazione, vado da Shiva e Visnu e gli dico, senti, ragazzi, io vi ho diviso, ma non so che cos'è il distacco. Mi dividete per favore voi, così io provo quello che ho fatto a voi. Ecco che noi stessi siamo stati coloro che hanno deciso che noi ci saremmo dicotomizzati in un'anima, in una mente e in uno spirito. Shiva, Visnu o chi per loro non ce lo sono fatti ripetere due volte? T'hanno preso l'uomo e l'hanno sbranato in tre pezzi e da quell'istante sono diventati loro, i dèi. È quello che succede nel mito, nel mito succede questo, Dio è troppo potente, Dio vede Adamo e Deva che sono un essere solo, insieme, androgeno e divide i tuoi, perché dice, erano troppo forti questi, li devo spaccare, c'è scritto nel mito, ma non solo nel mito ebraico, faccio per dire o nel mito degli indiani opi, dappertutto è scritto così, perché i miti sono uguali? Perché li abbiamo scritti noi e perché tutti uguali? Perché noi siamo i creatori dell'universo, magari Noè lo chiamo Upnapistim, ma è Noè e non c'è niente da fare, noi abbiamo capito tutto e abbiamo capito che cosa? Che il problema alieno ci ha servito per capire che noi siamo, dobbiamo tornare ad essere quello che eravamo prima, abbiamo fatto l'esperienza della divisione, della separazione, ok basta, fatta, ora torniamo insieme, quindi della alieno non ne abbiamo più bisogno, ma come quelli che teoricamente dicono di essere andati sulla Luna e hanno sviluppato comunque delle tecnologie importanti, poi la NASA è fallita dopo il primo sbarco sulla Luna, è fallita e hanno licenziato 10.000 ingegneri e roba del genere, qualche mese dopo, questi ingegneri si sono riversati sul mercato e hanno fatto dei bellissimi motori per lavatrici e noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo studiato gli alieni e dopo che abbiamo studiato gli alieni, il problema oggi si chiude ufficialmente, gli alieni, il problema risolto, abbiamo scoperto l'uomo, abbiamo scoperto la coscienza, la consapevolezza, l'anima, la mente, lo spirito e come funziona, l'universo sottoroidale, il fatto che nei numeri delle video c'è pi greco, c'è la sezione aurea, ci stiamo ricordando come noi abbiamo costruito la realtà virtuale, noi ci stiamo guardando in questo momento allo specchio e davanti a noi non c'è più quell'alieno che ci rompe le palle e che ci dice che non hai capito niente, davanti allo specchio c'è una bella formula di matematica che ci dice guarda, te hai creato questo, l'universo è fatto così, porca puttana, è una cosa meravigliosa, quando te guardi uno che cammini per la strada vedi te stesso, è lui quello lì, ti è simpatico o antipatico, è vestito bene, è vestito male, il cane, te lo guardi un cagnetto, che cagnetto carino questo cagnetto, sei te quello lì, avete mai visto quante volte il cane e il padrone abbiano la stessa faccia? Perché la tua capacità di vedere, di percepire le cose, vede nel cane uno specchio del padrone, perché in realtà il cane mi assomiglia affatto al padrone, siamo anche liberati per il cane, poverino! Capito? Ecco, allora questo è il mondo felice, questo è quello, noi andiamo in una direzione in cui non ci deve essere la separazione, i nostri governanti tendono a mantenere l'entropia a zero, perché tornare indietro non si può, non vogliono che la nostra coscienza che è l'entropia aumenti, quindi l'unico modo per tenerla a zero è fare in modo che quando si compia il loop, tu ritorni allo stesso punto di partenza, l'entropia a zero, cioè tu non hai imparato nulla. Siccome è impossibile fare questo, perché la maggior parte della gente è piano piano comincia a capire, quegli altri che sono rimasti scemi devono essere ancora più scemi nel tentativo disperato di compensare il fatto che in realtà noi stiamo andando avanti. Ecco, quindi male, ma andiamo avanti. Bene, questo dipende anche un po' al discorso che abbiamo fatto la volta scorsa, che era stato carino, legato anche alla simbologia del lucifero, che ha una forma di questo tipo, ma io invece volevo sottoportare un altro aspetto che mi piace di più che in qualche modo l'hai introdotto tu, che è la follia controllata, che è un termine squisitamente castanediano, che nel nostro caso per introdurla devo farti la domanda in questo modo, cioè uno sembra che tu per ottenere quell'incremento entropico, quell'aumento coscientivo che hai ottenuto con questo lungo loop da allora ad adesso, hai fatto tutte quelle cose che hai fatto, ma le hai fatte e subendole, cioè non sapevi di essere tu che stavi facendo tutta questa cosa. E allora la prima domanda che potrebbe sorgere è, ma questo meccanismo non è pensato proprio perché tu non lo sappia, perché al contrario, se io invece affermo che è solo io a creare l'universo, mi ricordo un po' The Secret, no? lì diventa il trepudio dell'ego. Io voglio, io faccio, anche perché l'ego, un po' per fare l'esempio che facevi prima, va molto a numeri, quindi il rasoio deve avere prima due lame, quattro lame, quattro lame, cinque lame, eccetera, deve avere tante lame. Quantità, quindi non sembra interessata la qualità alla questione, sembra interessata la quantità. però se in questo senso io mi rendo conto che la parte razionale mi può fottere, perché se io voglio andare nell'ideoplastico di un mondo felice, intanto abbiamo un prolimino perché sai, ognuno magari se lo immagina in un modo diverso, però mettiamo un attimo da parte questa cosa. Io magari mi giro e dico ok, sì voglio un mondo felice, poi mi giro e guardo YouTube, metti caso che ho la sfiga di conoscere uno, un esperto di marketing web e ti dici, vabbè ma Facebook per esempio, oggi tu fai un post, una volta sai sei gradi di separazione, tu raggiungi col virale, ecco, no, adesso i bot di Facebook ti fermano, cioè ti mostrano il tuo post a 20 persone, tu pensi che hai raggiunto i 3 mila amici, non pensi perché sei un utente educato ad essere ignorante, perché Facebook ci conta, in realtà a quelle persone, o meglio a un assetto di quelle persone, tu ci puoi arrivare solo se lo paghi, se fai pubblicità web allora lui ti mostra ai tuoi amici, quindi in realtà non c'è più il Facebook che tutti pensano che ancora esista, questo è un primo dato, cioè tu dici, ah, però mi sembra che le persone immediatamente non sanno neanche dove sono, la maggioranza di cose che toccano non sanno cosa sono, non è come funzionano veramente, ci deve essere sempre un secondo, perché compri una lavatrice? Perché ti stanno inculando, in realtà la lavatrice, dovevi tenere le analogiche, perché se hai una lavatrice digitale, sei già inculato su carta, è su carta, ho avuto il progetto della lavatrice che c'è l'obstituzione senza programmata, allora dici, cosa devo fare? Non posso usare la statistica, perché se io vado a vedere il filmato di Corrado Moranga su YouTube, ci capita, hai visto quante visualizzazioni che ha? 3 mila? Un giorno caricano un gol di non fuo chi che ha fatto la partita di giornalismo scorsa, il pompino del grande fratello, 2 milioni in 5 minuti, il che vuole dire che qui si sta parlando in proporzione che sono un accetto, sono una o un milione, abbastanza inquietante, sapendo che allora, e la domanda un pochettino così poi mi esprimi la questione, perché io non ho un'idea sulla cosa che ho, chi mi conosce lo sa, cioè dal mio punto di vista l'entanglement è selettivo, va a quel livello di coscienza, cioè tu sei entanglement, ma quindi sul tuo livello di coscienza, poi mi giro e mi rendo conto che quando per esempio faccio una conferenza, dico che bello ci sono 50 persone, poi queste 50 persone in realtà sanno già le cose che gli sto dicendo, sì gli piace sentirmele dire, magari gli vengono delle riflessioni, però noi siamo già su quel livello dell'essere, cioè in realtà non sto parlando agli altri, quindi non sto veramente aiutando qualcuno a fare un cambiamento e mi rifaccio anche quello che hai detto la volta scorsa, nessuno aiuta nessuno, in qualche modo, in quel senso, però se io guardando i numeri di YouTube la mia mente è razionale, non valto che dirmi non puoi andare in direzione del mondo felice perché non è possibile, perché? Perché se tu devi fare un'università ci sono le leggi che hanno fatto da cui non puoi uscire, se vuoi fare come parlavi prima dell'ASA, ti dice no questo non si può fare, non lo fai e i protocolli che utilizza l'ASA sono scemi, quindi non tengono conto dell'estremità scientifica a cui siamo arrivati, tengono conto di una cosa di comodo, quindi se io credo ai miei occhi e ragiono in forma giusta, faccio le mie misure, quello che ne deriva è non ce la possiamo fare e allora devo diventare pazzo, devo fare come la persona folle, mi pare fosse Planck che diceva tutti sanno che una cosa non è possibile finché non arriva lo stupido che non lo sa e la inventa. Assolutamente, è dunque polirisposta, ci sono diversi aspetti dietro questa questione, la prima è la seguente, io faccio una partita, la partita a scacchi è la mia vita, la mia esistenza, io gioco la partita a scacchi nella prima parte della partita, io non so che l'altro è me stesso, credo che sia il mio avversario, vivo cioè la mia vita in una visione di tipo separativo in qualche modo. Non mi rendo conto che io ho costruito il gioco, che io sono il padrone degli scacchi, che io ho fatto le regole e che l'altro avversario sono io stesso, quindi credo di poter o vincere o perdere. Arrivo a metà della partita e come dice il teorema di Gödel, mi rendo conto che io vinco e perdo contemporaneamente e l'unico modo per vincere e non giocare, che è anche l'unico modo per perdere. In realtà a questo punto io mi posso domandare, ho fatto, ho passato metà della mia vita con l'idea che tutto fosse diviso, ora che ho capito che tutto è invece una cosa sola, ho capito che il mio avversario non è il mio avversario ma è una parte di me che in fondo mi serve per continuare a comprendere le cose, ma ora che l'ho capito che mi frega a me di finire la partita? Come dice Joshua nel film, come si chiamava quel film, in cui l'unico modo per poter fermare il computer che stava simulando una guerra con i russi era spegnere il computer, ma il computer non si spegneva più sostanzialmente, è la frase che questo bimbetto dice e lui in qualche modo riesce a fermare il computer è che l'unico modo, deve far capire il computer che l'unico modo di vincere era non giocare. E dietro questa cosa, che è il problema di Gödel, dietro questa cosa c'è il concetto del fatto che non esiste la dualità e che quindi qualsiasi problema noi abbiamo esistono due soluzioni, una vera e una falsa, ma esistono contemporaneamente, coesistono insieme le due soluzioni e una delle due diventa vera solo perché io lo voglio, perché io sono il creatore dell'universo e quando ho deciso che una delle due soluzioni era vera ho anche deciso che l'altra soluzione era falsa, quindi il fatto di aver diviso le due soluzioni, una vera e l'altra falsa, mi fa credere che l'universo sia duale, mentre la soluzione vera è solo metà, perché l'altra metà è la soluzione falsa. Quindi perché devo continuare il gioco? Ho capito tutto e la mia coscienza mi dice, te devi continuare la partita, devi fare la seconda parte della partita, la seconda parte della tua esistenza, perché la prima l'hai vissuta facendo l'esperienza della dualità e della divisione, la seconda la vivrai facendo l'esperienza dell'unificazione, in questo contesto te devi fare giocare comunque la partita fino in fondo, te comprendi questo, sai che il tuo avversario in realtà non vince e non perde come non vinci e non perdi te, ed è semplice, chi vince in realtà ha vinto la partita, ma in realtà ha perso perché non ha imparato niente, chi perde ha perso la partita ma in realtà ha giocato con uno più bravo di lui, quindi ha imparato, quindi ha vinto, è per questo che non vinci e non perdi mai sostanzialmente. L'unica cosa che in questo percorso te non sai è che cosa succederà durante il percorso e non lo sai perché tu non lo vuoi sapere, perché ti sei vietato di saperlo, perché se lo sapessi non sarebbe più un'esperienza, tu sai con certezza che l'esperienza finale è ok, te torni ad essere quello che eri prima, la coscienza integrata, quindi happy days, ma non sai quale sarà il percorso che tu giorno per giorno inconsapevolmente deciderai di fare, perché questo ti permette di vivere l'esperienza come se fosse veramente un po' traumatica, se vogliamo comunque. Sai, se te c'hai 100 mila dollari e vivi una settimana da povero nel Bronx, sai però che dopo una settimana c'hai sempre 100 mila dollari, prova a vivere una settimana nel Bronx sapendo che te sei un poveraccio e c'è una vita completamente differente, quindi l'esperienza va fatta in questo modo e questo è il primo aspetto sostanziale della questione. C'è un'altra cosa che volevo dire, ma io mi dilungo troppo in queste cose di essere un anzianotto, poi mi dimentico. La faccio rivedere in mente però perché era importante. Mi è sfuggita, peccato. Follia? Sì, una follia, una follice. In realtà, quindi noi dobbiamo comunque continuare a vivere e a fare le esperienze e arrivare fino in fondo. Non dobbiamo pensare che comunque siamo legati a un blocco programmato per cui alla fine non riusciremo a uscire dal loop, perché il loop lo abbiamo creato noi e il loop ha tre punti fondamentali, l'inizio, il mezzo e la fine. Vedete? E l'inizio e la fine sembrano uguali, ma non lo sono perché cambia la consapevolezza. E questo non è che te lo dico io, me l'ha detto Buddha, l'ho chiesto a Gesù o me l'ha detto la Madonna. No, lo senti dentro di te. E che cosa vuol dire? Sei dentro di te. No, sei te il creatore. Se quando te hai capito questa cosa, comincia a credere a quello che senti dentro. E quello che succede è che te ti freghi con le tue stesse mani, un po' l'aspetto mentale di cui si diceva prima, perché la tua parte mentale non è che ti metta i bastoni fra le vuote, come diceva New Age, la mente mente. No, la mente fa il suo lavoro. Qui non mente nessuno. Mentire è andare a fare qualche cosa di complicato e di antietropico, quindi non si fa. Il mentitore è colui che fa i soldi, perché mente a se stesso. Fa i soldi che li prende a te e se li prende per sé, quindi ti simmetriza l'universo. Quindi non c'è niente da fare. Mi dispiace perché fa i soldi. Sta facendo un processo antitermodinamico e soprattutto sta mentendo a se stesso. Cioè si sta dicendo che beh, tutto sommato, attraverso un processo di dissonanza cognitiva, beh, c'è di male. I soldi li fa lui perché non li posso fare anch'io? Sì, ho capito, se hai una testa di cazzo lo sai anche te? Cioè, si potrebbe dire così, no? Sarebbe la stessa cosa. In questo contesto noi siamo i creatori del nostro loop, in qualche modo, ma nessuno ci può, come si dice, influenzare. Perché il problema dell'influenza è una cosa interessante questa qui. Per esempio, Vanna Marchi. Vanna Marchi è stata condannata perché ha fatto un sacco di tuffe, poi è la sua giù, eccetera, eccetera. Cioè, è vero. Però c'è della gente che si è fatta truffare davanti ai Marchi. Allora ti dici, ma come? Quali si sono fatti truffare? Cioè, qualcuno ha proposto di mettere in galera quelli che si erano fatti truffare. Allora, però da un punto di vista di entropia, questa è una cosa che l'etropia ci spiega perfettamente. E ve la dico in 5 secondi. Non esiste nessuna possibilità che nessuno influenzi nessun altro contro la propria volontà. Perché? Le persone, quando si incontrano e interagiscono tra di loro, fanno come gli orbitali molecolari, interagiscono solo se hanno la stessa energia. Il che vuol dire, in approssimazione, se hanno la stessa entropia. Ma siccome l'etropia è una misura della consapevolezza di sé, quando due persone si possono incontrare e quindi influenzarsi, quando possono interagire tra di loro e quando possono farlo, quando hanno la stessa entropia. Ma se hanno la stessa entropia, non c'è nessun bisogno che uno influenzi l'altro, perché sono tutti e due uguali. Se invece due persone che hanno entropia diversa si incontrano, cosa succede? Quello ha entropia superiore, più furbo, o quello ha più entropia inferiore, più furbo. Può influenzare l'altro? No, perché questi due hanno un'entropia talmente diversa che non si incontrano tra di loro. Nel mezzo c'è tutta la sfumatura dei vari X per Y uguale K. Questa, così, è una curva così. Sostanzialmente quindi due persone non si possono mai influenzare tra di loro, perché se sono uguali non c'è nessun bisogno di farlo. Se sono diversi non si incontrano proprio. Che cosa vuol dire questo? Ma allora Vanna Marchi, cioè Vanna Marchi vendeva fumo e chi comprava quel fumo sapeva perfettamente che era una fregatura e lo sapeva e aveva davanti a sé. Vanna Marchi si era creata a questo specchio e questa esperienza sarebbe andata avanti fino all'istante in cui qualcuno non avesse fatto capire a questa gente che si stava ingannando. Te stai ingannando te stesso se credi che un altro ti renda migliore. Te ti rendi migliore da giorno. Vanna Marchi lo faceva nell'aspetto estetico, no? Te diventerai alto 4 metri ora che sei alto 1,20 metri. Ti diceva così Vanna Marchi, spruzzati sto sapone addosso e vedrai cosa succede. Elagement in chimica organica. Capito? Invece le cose non erano così e te sai perfettamente che non è così, ma tu non ci vuoi credere. Il tuo inconscio lo sa, ma te non ci vuoi credere. Te fai come quell'addotto il quale si rivolge a te e ti dice sei te che mi devi guarire. Te mi guarisci, te mi puoi guarire, te sai come si fa, te sei l'esperto, guarisci. E cosa succede? Che c'è della gente che si fa, per esempio, pagare per fare, che ne so, il triade color test, nonostante che io, che ho inventato immodestamente il problema, dica che dentro l'acquisizione di consapevolezza c'è scritto che i soldi non servono a niente e che la gente non deve essere pagata e che la coscienza si ottiene per un percorso gratis. Gratis. Allora, se te vai, vuoi farti aiutare da uno che ti dice ti aiuto io, ti faccio il TCT io, però te mi dai 30 Euro? Te vai da Vanna Marchi. Allora, non c'è nulla di male in tutto questo, assolutamente, né in chi prende 30 Euro, né chi va da chi prende 30 Euro, ma si deve capire che queste due parti si stanno specchiando tra di loro, cioè se stanno a piabere il culo, come direbbe la Roma, cioè se stanno a fregare l'uno con l'altro abbastanza inconsapevolmente, devo dire la verità. Quindi, già che ci siamo, per chi volesse fare quella cosa, quel processo fondamentale, che è il processo di acquisizione di consapevolezza, che passa per la unificazione delle sfere, anima, mente e spirito, perché te non puoi pretendere che all'esterno di te ci sia il mondo migliore e dentro di te sei ancora diviso, perché siccome te sei il creatore, prima lo devi creare dentro di te e poi avverrà fuori, nell'istante in cui questa gente si mette nelle mani di qualcuno di questo tipo, o che fa le ipnosi regressive su Facebook, chiamiamole ipnosi regressive, perché sono delle cose che sono allucinanti, cioè va da Vanna Marchi, sta andando da Vanna Marchi, c'ha un altro nome, ma è Vanna Marchi, incarnata in un altro personaggio. Ma, va bene, non c'è problema, però sappia che dentro l'acquisizione di consapevolezza, dentro il TCT, dentro questa cosa, c'è scritto, siccome l'ho fatto io, lo posso dire, non te ne lo dico io, l'ho fatto io, c'è scritto che la consapevolezza, la coscienza, non la prezzo, e proprio per questo non si deve aiutare nessuno a farla, perché te la puoi fare solo se te sai che nessuno ti potrà aiutare, ti devi prendere la responsabilità su di te, quindi se te vai da un operatore che vuole fare una cosa leggera e ti vuole aiutare, uno chiedi, scusa ma te l'hai fatto il TCT, ti è venuto bene, ti sei riunito, primo, e se questo ti dice per caso sì, gli dici ma allora perché ti fai pagare, visto che nell'acquisizione di consapevolezza c'è scritto che queste cose si fanno gratis? Riflettete un attimo su questa cosa e scoprirete che ognuno deve farsi da solo a casa questo banalissimo esercizio che è talmente banale che sembra pieno di grandi difficoltà e le difficoltà sono dovute al fatto che le persone, chiaramente, io ho 65 anni, non posso dire, ho vissuto 65 anni in un posto dove tutti mi dicevano che cosa dovevo fare, quindi quando ho capito che forse era il caso che io facessi quello che cazzo mi pareva a me e questo io lo chiamo processo di acquisizione di consapevolezza, qualcun altro dirà che sono diventato, sono impazzito, perché c'è chiaramente l'altra parte, in questo contesto io capisco che dopo 65 anni che ti hanno insegnato che c'erano i buoni e i cattivi e che te scopri che non è vero, ci sono delle remore a pensare di poter unificare facilmente l'anima, la mente e lo spirito, ma lo devi fare, perché quello è il tuo percorso, se non lo fai ora lo farei fra 20 anni, fra 30 anni, fra 40 anni, fra 600 vite parallele che te devi vivere, cioè a me se mi dicessero mi tocca rivivere un'altra volta, ma mazzo! Non vale comunque! Nella mia osservazione ho visto che, un po' come la persona a cui ti riferisci, che dopo tanti discorsi che tu magari li puoi fare, alla fine dice sì bene, ok, allora dimmi come faccio, dammi una regola, guariscimi, regola. Io lì, non c'è nessun dubbio, io vedo che abbiamo una parte che in realtà a mio avviso è potentemente condizionabile, nel senso che è programmabile, che è praticamente un computer, la persona ragiona con quel lato lì ed è per questo che è ovvio che lo dovete risolvere tu, a chi altri se no? Cioè è impossibile, finché abbiamo una gerarchia interna di comando in quel modo, è l'esempio che faccia la segretaria l'impresa, cioè l'imprenditore con una segretaria particolare, solo che si sono sbagliati, hanno messo la segretaria a comando dell'impresa e l'imprenditore a fare a disbrigopratiche. Cosa succede? Niente, che la segretaria non si sente all'altezza, non ha la minima idea del philosophy dell'azienda, cioè non sa che cosa veramente vuole quell'azienda, magari è un'azienda che serve solo a fare qualche raggiro piscale, ma non ha la minima idea. E cosa fa? Chiede a tutti, chiede sempre agli altri cosa deve fare, ha bisogno sempre che qualcun altro o una regola, che si sostituisce a una decisione cosciente, una regola gli dica cosa fare. Di fatto lei è stressata, non sta bene nella sua vita, perché si sente intimamente e profondamente non all'altezza di quello che sta facendo, perché alla fine lei non sa come scegliere, avrebbe bisogno di qualcuno che scegliesse. Allora io vedo proprio l'allegoria con due parti di noi, una che potrebbe essere una parte cosciente, capace di dire no scelgo così perché me ne ho sento e l'altra parte che invece per fare una cosa ha bisogno sempre di un motivo, però se io seguo questa linea il motivo è manipolabile, cioè io il motivo a qualcuno glielo posso dare, sbagliato, come fa il venditore? Il venditore ti crea un meccanismo, ti dà la soluzione e tu vai esattamente in quel posto lì, ma perché? Perché non stai ragionando con una parte che possiamo dire cosciente, ma stai automatizzando e ricorda anche un po' perché si riferisce un po' al discorso di prima dove dicevo, ma noi quando cambiamo stato di coscienza a livello entropico etc., poi che succede? Perché fuori rimane tutto un pochino uguale spesso e mi ricorda un principio che mi piace dove Castaneda dice se tu cambi dimensione, non è detto che vengono i colori sgargianti nel cielo, cambiare dimensione vuol dire niente, è uguale a prima, però è cambiato, come fai a renderla coerente? Le nuove cose che prima non c'erano e adesso ci sono, devi dargli un senso perché se no quella dimensione è folle, non riesci a fare neanche un'esperienza all'interno di quella dimensione se no gli dargli un senso, allora lì mi serve la segretaria, lì vedo l'utilità della segretaria che non è quella che comanda, però se la segretaria al comando chiaramente dirà, ma venga toglimi il problema perché devo andare a lavorare, quando il problema è lei, è tutto quello che sta facendo, in questo senso mi sembrava una cosa carina, che ne pensi? Dunque, l'aspetto di quello che potrebbe essere la civiltà del mondo felice prevede è che non ci siano le segretarie e non ci siano i padroni dell'industria che hanno le segretarie, o meglio, sì ci saranno queste due figure, ma non è l'accezione di uno comanda e l'altro fa un'altra cosa, uno fa una cosa, io sono il segretario, sono il comandante di me stesso perché so fare benissimo il segretario, l'altro io sono il padrone dell'industria e sta facendo un'altra cosa, ma tutti e due sono padroni sostanzialmente della loro attività, quindi non c'è una piramide di comando, io comando, lei mi faccia questo, no, io so che cosa devo fare, ci sarà una riunione aziendale all'inizio in cui tutte le figure, operai compresi, decidono dove vogliono mandare l'industria, dopodiché ognuno per la sua esperienza fa quello che solo lui è in grado di fare perché è più bravo di tutti, quindi il padrone non si mette a fare l'operaio perché non lo sa fare e l'operaio non si mette a fare il padrone perché non lo sa fare, ma l'operaio e il padrone prendono lo stesso stipendio, cioè zero, perché le lire non ci sono, i soldi non esistono, per arrivare a questa società non ci si arriva domani mattina ovviamente, quindi tutte le scale gerarchiche vengono abbattute, non ci si arriva in tre giorni, ma ci si arriva per passi graduali, questi passi graduali prevedono sicuramente un'acquisizione di coscienza e di consapevolezza perché la tua segretaria, la prima cosa che deve fare, siccome è stressata che non sa come fa, se deve fare il tira dei color test dinamico flash, unire le sfere e chiedere alla propria coscienza come agire in certi momenti, così come deve fare il padrone dell'industria e in quegli istanti tutti gli operai, se dovrebbe fare a scuola elementare il TCTDF, così tu capisci chi sei, capiamo tutti di essere parte di un'unica cosa e il rapporto che noi abbiamo con il nostro lavoro e con il nostro dottore di lavoro e con tutto l'universo cambia sostanzialmente, cambia a tal punto in modo da costruire una società che evolve in una direzione entropica, non ci si può fare niente, non può più venirti il padrone dell'industria tale a dirti io ho fatto i soldi perché io sono più bravo di te, quindi ti posso comandare, perché tu gli ridi nel muso e gli dici se hai fatto i soldi è perché hai rubato, perché non si fanno i soldi se non si ruba, non è vero, io non ho mai rubato, avrei rubato il tuo babbo, non è vero, arrivavano l'altro, tu nonno, ma qualcuno ha rubato perché se no te i soldi oggi non ce l'avevi, è semplice, è termodinamica pura, è solo l'integrale, il logaritmo dei microstati, non c'è niente da fare, è così, quindi è evidente che tutte quelle che sono le bolle finanziarie, le speculazioni che non solo è il campo finanziario, ma in tutti i campi vengono fatti, sono speculazioni del campo culturale, te apri un libro di storia delle scuole medie e scopri che ci sono scritte delle cazzate enormi sulla storia perché a secondo del governo che te c'hai, la destra è buona o è cattiva, dipende da chi c'è il governo e ogni anno ti tocca cambiare libri perché ogni anno cambia il governo, è incredibile questa cosa qui, quindi una classe di persone nasce pensando che la destra abbia ragione, una classe pensa che la sinistra abbia ragione e quando scoprono che la destra e la sinistra attuali non ci sono, scopri che ti hanno preso per il culo, è banale, i soldi non servono, non servono a niente, noi basta pensiamo una cosa, pensiamo che lo Stato mi dà uno stipendio, guarda che non è così, sono io che mantengo lo Stato e lo Stato si trattiene gran parte del reddito che io ho fatto e me ne dà la metà, non so se ci avete mai pensato, ma poi perché quando vai in pensione te ne do l'altra parte, sì speri che io crepi presto così, me la ridai tutta e che comunque mai tutta me l'hai data perché sempre metà te la sei tenuta, allora non è lo Stato che ti dà i soldi e che ti dice il tuo padrone se non ti comporti bene ti licenzio, sei te cittadino che devi dire guarda che se mi fai girare i cognoni lavoro per me e non più per te, cambia il paradigma, cambia tutto e in questo contesto capisci che la società che hai in questo momento è una società che ti gestisce e ti fa credere che tu devi rispettare le regole, sei tu la regola, non c'è uno che comanda nel mondo felice, mondo felice è quel mondo in cui la gente vive in armonia e soprattutto ognuno è il responsabile di se stesso, io dico così, ma questo non vuol dire l'anarchia, ognuno può fare quello che vuole, no, perché in una società del genere tutti hanno acquisito consapevolezza e coscienza, quindi tutti la pensano nello stesso modo sostanzialmente, quindi non ci sarà più uno di destra e uno di sinistra, ma ci sarà un gruppo di persone che cercano di portare avanti la società, non ci sarà più bisogno di venderti 19 telefonini perché te al massimo c'hai due orecchie, puoi rispondere a due telefonini insieme con qualche lobotomizzazione cerebrale, il problema della televisione, fateci caso, la massificazione della stupidità delle persone viene fatta attraverso soprattutto, oggi come oggi, soprattutto i mass media, per questo c'è la voglia di farti vedere per forza la televisione, te esci di qui c'è un monitor, entra la stazione c'è 14 monitor, vai in ascensore c'è un monitor che ti trasmettono puttanate, te non li guardi nemmeno ma in realtà loro pensano che il tuo subconscio prenda quelle informazioni e te alla sera mentre dormi te le ricordi e attraverso tutte queste televisioni, guardate che la televisione è tremenda, la televisione ha due aspetti, do e des, te fanno vedere le cose e con miliardi di telecamere guardano se tu rispetti gli ordini, una volta il governo ai tempi degli antichi, dei greci, uscì dal governante e il popolo lo circondava e lo applaudiva, oggi scende il governante e il popolo lo circonda per tagli un sacco di mazzate, è cambiato qualcosa, il punto numero 1 e il punto numero 3 sono le stesse, il popolo ti circonda sempre, però è cambiato qualcosa, è cambiato qualcosa, noi non siamo più rappresentati da quelle persone, ma perché? Perché non lo siamo sostanzialmente mai stati rappresentati, perché abbiamo delegato un altro a fare il lavoro che noi non volevamo fare, abbiamo delegato gli dei a fare i responsabili del nostro futuro, del nostro presente e del nostro passato, abbiamo delegato i demoni a farlo ugualmente, deleghiamo il commercialista a tirarci fuori dalla merda quando c'è il momento del 730, perché il 730 è una cosa talmente complicata che, e te capisci che è complicata perché avevamo bisogno di creare un gruppo di persone che si chiamano commercialisti che fanno i commercialisti, perché se non ci fosse il 730 non c'erano i commercialisti, lo Stato ti paga, ti dà dei soldi, te ne dà, non c'è, ti dà dei soldi, ti dà un po' di cose e te, con questi soldi non capisci più niente, cosa devi scrivere? Compili il rigo 22 e i righi 23 e 24, si dice i righi, io credevo si dice le righe, invece si dice i righi, ma te rendi conto al commercialista, al commercialista cosa sei? Via, via commercialista, non se ne accorge più nessuno, te non le paghi le tasse perché i soldi non ci sono, non devi fare niente, le banche, le banche te paghi la banca, hai un conto corretto e lo paghi, ma quando è che la banca funziona? La banca funziona, quei 3 secondi in cui tu entri dentro la banca e gli dici mi dia 100 Euro, grazie, arrivederci, poi per 4 mesi non entri più in banca, ma lo stai pagando sempre la banca, ma cosa serve la banca? Via la banca, ma via i soldi, come al solito, te puoi vivere semplicemente perché tutto è sostanzialmente statalizzato e niente è privatizzato, perché chi ha inventato i soldi ha inventato un sistema per dire tu ce li hai e tu non ce l'hai, quindi duale, quindi contra termodinamico, non è che c'è da fare dei voli pindarici chissà come complicati, difficili nella società del futuro, non si può fare questo, non si può fare quello, non si può fare quell'altro, rendiamoci conto che la gente ti vuole far comprare delle cose che non ti servono e te le deve far comprare, te le deve far comprare perché se no la ditta che costruisce quelle cose fallisce, perché l'anno scorso ha venduto 100, quest'anno se vende 100 fallisce, deve vendere 150 e nel vendere non deve produrre, e nel produrre deve fabbricare anche i sottoprodotti che sono merda, quindi il pianeta si sta trasformando in una spazzatura sostanzialmente, allora perché te devi comprare un telefonino ogni 4 mesi? l'altro lo debutta, non lo comprare, facciamo un telefonino che duri un pochino di più, no, perché se no non lo compri, cioè non lo ricompri più, così come devi comprare delle cose che non servono niente, così come la televisione, la televisione che è una delle due parti, le telecamere che ti controllano per vedere se ti rispetti gli ordini e i monitor che ti dicono quali sono gli ordini da rispettare, sostanzialmente è quello lì, quarto, quinto, sesto, settimo potere e quando te fai l'acquisizione di consapevolezza e di coscienza, perché è un'arma potentissima, fatelo, riaccendete il televisore, guardate il telegiornale e vi mettete a ridere, dopo che l'avete fatto, provate, cosa dice quello lì? Lo Stato italiano quest'anno ha guadagnato a luglio il PIL, il 3% in più dell'anno scorso, ti dici, cazzo, siamo per i canzi, non ti dice che il deficit era del 3.000% e ora è del 2.977%, cioè giugno, quando sono arrivati i soldi degli stranieri che vengono in Italia a fare le vacanze, perché se allora dice a ottobre, ma non te lo dice a ottobre quel dato lì, te metti a tremare, allora come giustamente il grande politico viene e ti dice abbiamo dato il posto di lavoro a un milione di persone in più, se te non hai fatto il DICIT ci credi? Se te hai fatto il PIL con la testa di Amico Flash, la tua coscienza ti dice ma è scemo, la senti la voce dentro di te, ma è scemo, ma cosa dice? Poverino, sento la voce dentro di me, dice poverino, ma lo capisce che c'è della gente che lo guia per il culo, poverino, lo guarda, lui è convinto, non lo parla così, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quello, abbiamo fatto, sì c'è qualche ministro che ci finisce in galera da un momento all'altro, ma non vi preoccupate perché noi andiamo avanti, c'è qualcosa che non va, noi ce l'abbiamo messo, il nostro specchio è quello lì, come con l'alieno, abbiamo delegato l'alieno a fare per noi, la nostra parte animica ha detto all'alieno pensaci te, sì, poi te vuoi l'energia, te la do, no, 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 riprendiamoci il nostro potere, ma non perché noi vogliamo fare una rivoluzione culturale o armata, men che meno, o finanziaria o industriale o sociale o storica, quelli le abbiamo già fatte, noi dobbiamo fare una rivoluzione coscienziale e ti dicono, ma te parli bene il mondo felice, tutte queste cose, i soldi, ah sì sarebbe bellissimo, ma questa cosa non si può fare, è utopia, nell'istante in cui tu dici è utopia, crei, perché tu sei il creatore del tuo diverso, che quella cosa per te sarà utopica e quindi non accadrà, te non devi dire è utopia, è impossibile, te devi dire lo voglio, sì, te piace, sì, se fa e scopri che in quel momento te non lo vuoi fare, perché in quel momento dentro di te hai una vocina che ti dice, ma no, lasciamo governare Renzi, che lui è bravo e capace, capito? Cos'è? Volevo dire che la signorina, la segretaria di prima e anche i riprenditori poverazzi erano un'allegoria e comunque non è che volevo veramente, poi la uso spesso perché per me è l'allegoria della mente creativa, la mente olografica che in qualche modo sa perché appartiene a un vettore diverso e un'altra mente che la considero una mente informatica che la chiamano la segretaria, con tutto il rispetto alle segretarie, che è quella che ti sbriga i problemini perché se non ti mette l'ordine è quello che Castaneda chiamava il tonale e diceva, hai un tonale ordinato? No, allora che cazzo fai? Cioè è quello che nell'agnosi si diceva, c'è uno squilibrio tra il sapere e l'essere, cioè tu sei un sacco di cose e ne sai talmente tante che credi a quello che sai, il che vuole dire che diventi una macchina che elabora dati noti per giungere a delle conclusioni nuove che però sono basate sui dati noti, quindi non ha cambiato di base e noi qui non ce lo possiamo permettere, cioè quello che volevo proprio dire è che dobbiamo fare un'inversione, mettere la parte creativa sopra che si può permettere di fare una scelta che la ragione potrebbe anche disapprovare, perché se stiamo dietro sempre alle scelte che la ragione approva, la ragione potrebbe anche dire una minchiata, tipo è impossibile che con certi come siamo non c'è la possibilità, quindi l'assurdo invece deve diventare possibile, dobbiamo consentirci di fare questa cosa. Va bene, adesso ti faccio una domanda un pochino diversa, un po' più frivolina, tipo hai identificato nelle configurazioni evidioniche, chiamiamole no, ma che la forma delle tre sfere del TCT, la configurazione degli assi e le altre sfere nello schema evidionico hai visto che se la persona ha determinate caratteristiche, sia problematiche che sappiamo, sia problematiche psicologiche, ma anche problematiche che possiamo definire energetiche, legate alla sessualità o altre queste cose, si nota. Invece una cosa che secondo me invece è la dimostrazione di quello che vi sono sempre sentito da affermare sfacciatamente, cioè che non esiste una differenza tra l'uomo e la donna, contrariamente a qualunque cosa moderna, new age, che dicono la donna è superiore, no, sì, no, sì, no, no, uguale, per me è uguale, cosa cazzo cambia tra l'uomo? Cambierà il personaggio di cui si identifica, però se per il caso smettessimo di identificarci, quello che scopriamo è che abbiamo un funzionalismo simile in una macchina diversa, perché la macchina non è proprio uguale, però la parte interna è la stessa e la domanda è, tu hai mai notato differenze, perché uomini e donne hanno comunque quella configurazione, giusto? Sì, sì, ho notato delle differenze, che sono differenze che sicuramente sono ancora un po' sotto studio, diciamo così, anche perché per poter continuare questo tipo di studi avrei dovuto continuare a fare quello che facevo prima, cioè la valanga di TCT soprattutto, a catalogarli e a verificare su base statistica quello che ci sembra di fare. La differenza tra il maschile e il femminile è una differenza di natura geometrica, dunque quello che succede è che noi vediamo questo, l'universo virtuale, questo che noi vediamo, è duale. L'universo virtuale è duale, che cosa vuol dire? Vuol dire che tutto nasce da un uno che diventa due, in quell'istante i due diventano quattro, i quattro diventano otto e gli otto seggi, tutto su scala di due, sempre. Non esiste nessun'altra possibilità, qualsiasi tipo di operazione che si faccia è un'operazione del nostro universo duale, non esiste un'operazione che non sia duale. Per esempio, il numero d'avvocato, 6,024 circa per 10 alla 23, un numero che dice, ma che è questo numero? È il numero di particelle, per esempio di un gas, a condizioni normali, messe in un certo posto, a una certa pressione, a una certa temperatura, a un certo volume, preciso, standard. In quel volume lì, non esiste un'operazione di particelle. C'è quel numero lì, ma non solo di particelle di gas, che ne so, di cariche elettriche che girano in un cavo, di particelle di qualsiasi tipo. Siccome il mondo evideonico è legato alla struttura di un frattale, questo vuol dire che in un cubetto di spazio-tempo c'è sempre lo stesso numero di cose. Questo è molto interessante perché se si fanno un paio di conti si scopre che questo numero di cose possono essere non solo, banalmente anche ricavare il numero di fotoni, e quindi ricavare il numero di fotoni totali dell'universo, che in quanto a caso sembra uguale a quello che la fisica quantistica ha calcolato, non a caso, ma è uguale anche al numero di coscienze che ci sono nell'unità di spazio. Coscienze che si sono divise, 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 fino al settimo livello che è il nostro, ottenere un certo numero di coscienze che è sostanzialmente legato al numero di Avogadro. E lì che cosa si vede? Si vede che perché l'universo sia simmetrico, queste coscienze devono in qualche modo comportarsi simmetricamente, se una va a destra, l'altra va a sinistra e così via. In questo contesto, nelle videon, andiamo per un attimo di persone che sono pseudonormali, cosa vuol dire? Vuol dire persone che sentono l'universo dentro di sé e lo percepiscono archetipicamente corretto, cioè come l'universo videonico è stato descritto, perché noi siamo, come degli evidio, siamo un universo sostanzialmente, quindi con questi tre assi dell'energia, in alto il verde, il magenta, il basso il colore verde, davanti il rosso dietro il ciano, qui il blu, di qua il giallo. Noi ci si mette nel mezzo come l'uomo di Vitruvio e dobbiamo avere questa disposizione di sferente e di pallette messe davanti, lo vediamo nel nostro cervello così. E poi se chiediamo a questi assi di girare, il soggetto li vede girare o in senso orario o in senso anti-orario, a secondo di come gli diciamo di fare. Quello che si vede è che la femmina sembrerebbe girare questi assi in senso anti-orario rispetto al maschio. Questo ha un interesse di natura geometrica, cosa servirà? Non lo so, ma sembra che sia così. Ma questo vuol dire anche che quando una parte femminile e una parte maschile, per caso, coscienze gemelle si unificano, cosa sono le coscienze gemelle, sono quelle che si sono formate da una sferetta in comune, sono diventati due, il processo è duale, io nasco da quella sfera lì, te nasci da quella sfera lì, noi eravamo una sfera unica. Si scopre che queste due sfere, per poter continuare a sopravvivere nel nostro universo, devono essere separate da un entanglement, che è un piano di simmetria. Una deve girare a destra, l'altra deve girare a sinistra e questo sembra effettivamente quello che succede in un maschile e in un femminile nella rappresentazione del triade color test. Quindi c'è questa differenza, che è una differenza puramente geometrica. È la differenza geometrica della rotazione delle sfere che produce il sesso o è il sesso che produce le sfere? Non si uscirebbe da qui se non con un escamotage. La causa e l'effetto nel mondo duale sono diversi, ma siccome noi sappiamo che la dualità l'abbiamo creata noi, non c'è più la causa e l'effetto. Questi sono due aspetti dell'unica cosa. Altro non so. Grazie. Mi piacerebbe che ne parlasse del cronusore. Sì, è una domanda difficile, sono abbastanza impreparato su questa cosa. Il cronusore è un'ipotetica macchina che sarebbe stata conservata all'interno del Vaticano e che serviva a chi comanda lì dentro per vedere il cosiddetto passato. In realtà questo padre Ernetti che ha parlato di questa macchina, il cronusore, è stato contattato da diverse persone che io poi nell'arco della mia vita ho anche conosciuto e che mi hanno confermato, al di là di quello che può essere scritto su un testo qualsiasi, eccetera, al di là di tutto che questo Ernetti si esprimeva in questo modo, diceva determinate cose e quindi in realtà la sua testimonianza dovrebbe corrispondere. Cioè esiste una macchina che permette di guardare il passato. Al di là di questo ci sono due aspetti fondamentali. Uno è, si può guardare nel passato. Da un punto di vista quantistico sì, è facile. È più facile guardare nel passato che non guardare nel futuro, sostanzialmente, per noi che siamo qui in questo universo. Per problemi di fisica quantistica, sostanzialmente, perché se esistono i fotoni e gli antifotoni, noi siamo nel presente. Il presente è costruito da un fatto. Brevissimamente, noi sappiamo che esiste solo il presente. Sappiamo che il problema di causa ed effetto, per un attimo ammettiamo che esiste il tempo e ammettiamo quindi che attualmente esista il passato e il futuro. Esiste quindi la causa ed effetto. Noi viviamo per effetto del passato, perché una causa del passato ha prodotto un effetto nel presente. Nessuno ha niente da ridire su questo fatto. Dieci anni fa mi sono spezzato una gamba in due e oggi mi fa male quando cambia tempo. Banale. Però se esiste anche il futuro, esiste anche una causa nel futuro che ha un effetto del presente. Quantisticamente parlando, questo vuol dire che ci sono cause nel passato e nel futuro che hanno come effetto la creazione del presente. Cosa vuol dire questo? Siccome l'universo è fatto solo di fotoni e di antifotoni, noi sappiamo che i fotoni hanno la caratteristica di andare dal passato verso il futuro. I fotoni del passato mi illuminano. Io sono illuminato dalla stella Alfa Centauri che dieci anni fa, hai messo quel fotoni, ci ha messo dieci anni per arrivare da me, eccomi qua. Quindi io sto vedendo il passato. Attenzione, sono una macchina e io li pare delle reti. Sto vedendo il passato, perché se qualcuno mi stava mandando una fotografia da Alfa de Centauri, io sto guardando la fotografia di dieci anni fa, quindi io ora sto guardando quello con un monitor che accade dieci anni fa su Alfa de Centauri. Ammettendo che Alfa de Centauri sia dieci anni luce, che non mi ricordo quant'è, dal Terra. Ma perché non sono illuminato dai fotoni di domani, del Sole? Io sono illuminato dai fotoni di... il Sole di domani non lo vedo, no? Ti immagini che casino essere illuminati? Perché? Perché gli antifotoni che dal futuro vengono verso il presente, ce vengono. Ma l'antifotone ha una elicità, si dice così, uno spin particolare per cui non interagisce, se non in maniera minima e infinitesimamente piccola, non ce l'accorgiamo, con la materia. L'antifotone invece interagisce con l'antimateria. Funziona in questo modo. Quindi io non riesco a vedere, anche se mi passano davanti, ma non li vedono, non interagiscono con me, gli antifotoni che vengono dal futuro. Da questo punto di vista è possibile creare una macchina che guarda nel passato? Voi vi vedete conto sicuramente di una cosa. C'è una cosa che si chiama Paradosso di Overs. Guardate che gli scienziati sono strani, una volta sono talmente strani che ti fanno ride. Il Paradosso di Overs dice questo, come mai quando si esce per la strada di sera è tutto buio? Perché dovrebbe esserci un sacco di fotoni? Se ogni stella, e le stelle sono infinite, mettono un fotone, come lì? Di notte ci dovrebbe essere più luce che di giorno, e invece no, è buio. Allora ci sono il Paradosso di Overs. Vi posso assicurare che la scienza ufficiale non lo sa perché. Cioè ci sono delle spiegazioni, ma queste spiegazioni non tengono conto di tutta la fisica. Se danno ragione a mezza fisica, l'altra mezza rimane fuori. Non c'è una spiegazione chiara per tutto quello che sta accadendo. La spiegazione chiara invece te la do io. E l'universo presente è fatto del presente, quindi è l'incontro di fotoni che vengono dal passato con antifotoni che vengono dal futuro. I fotoni e gli antifotoni che vengono dal passato e dal futuro si amichiliscono tutti e te non vedi niente, tranne i fotoni che sbattono contro un oggetto e lo identificano. In quel contesto la parte antifotonica gli passa nel mezzo e non si vede. Questo è il motivo del perché il Paradosso di Overs oggi trova una spiegazione. La spiegazione la trova nell'esistenza degli antifotoni che a specchio con i fotoni si ammazzano nel presente. Giocare con i fotoni e con gli antifotoni vuol dire riuscire a vedere, se ci si riesce, nel passato o nel futuro. Nel caso del passato questo vuol dire che io sono in grado di avere una macchina che mi fa vedere in questo istante i fotoni che vengono dal passato. Ma è possibile perché nel caso di Alfa dei Centauri i fotoni vengono da lontano e ci mettono un sacco di tempo. Io voglio vedere subito che cosa succedeva su Alfa dei Centauri 10 anni fa. È sì che è possibile. È possibile perché se è vero che l'universo non è locale, tutto accade in un unico istante. Se accade in un unico istante Alfa dei Centauri non sta a lontano 10 anni luce, ma in realtà è qui, in questo spazio-tempo che non ha nessuna dimensione, perché ha a massimo le dimensioni di 10 alla meno 33 cm e 10 almeno 44 secondi che sono le unità di Planck. Quindi da un punto di vista ipotetico sembra possibile che esista una macchina che possa farti vedere queste cose, però bisogna capire bene come gioca con i fotoni e con gli antifotoni. Non so altro. Allora, io una cosa che ho notato leggendo parte del libro Fornalamente e anche guardando gli altri video che ha fatto sulla presentazione, è che le famiglie dell'addotto normalmente sono famiglie che c'è una grande sfera di confusione e a me quello che mi interessa vedere, visto che te hai messo in pronosti il mio argoterezione, la vita sociale e sentimentale e familiare dell'addotto medio. Beh, ci si potrebbe scrivere un'enciclopedia. Dunque, l'alieno ha il compito di tenere il soggetto nella confusione più totale, quindi in uno stato di disentropia totale, antientropico. Per fare questo usa l'unico sistema che si può fare, cioè il divide e l'impera. Quindi non solo tiene staccate le tre palle animamente e spirito che non devono sapere neanche l'uno dell'esistenza dell'altro. L'addotto vince l'alieno quando riunisce le spere, cosa che ai tempi di Valerio non sapeva. Ma per evitare che l'addotto capisca che in uno stato di adduzione, come i suoi familiari, evita che ci sia armonia in famiglia. In realtà quello che hai dentro l'addotto ce l'ha fuori, perché il fuori è lo specchio del dentro. Quindi nelle famiglie degli addotti non si parla mai con la madre, non si parla mai con il padre, non si parla mai di niente. Il caso di Valerio è eclatante. Valerio non parlava con i suoi genitori. Ogni tanto il papo scappava di casa due volte al mese, non sapeva dove andava, nessuno quando tornava gli chiedeva dove era stato. La mamma di Valerio è scomparsa. A un certo punto non c'era più, nessuno l'ha più cercata. Questo per dargli un'idea della famiglia, della stranezza. In quell'istante noi comprendiamo come i rapporti familiari sono decisamente compromessi. Perché l'alieno non vuole che tu parli ad altri. Perché in qualche modo in un contesto di 100 persone solo 20 sono animiche e le altre 80 no. perché il lux in una ipnosi una volta disse, no le cose devono essere fatte così, a noi ci piace che siano fatte così, perché se no c'è troppa concentrazione. L'addotto animico deve essere solvatato nella società. Che io so bene che cosa vuol dire. Cioè deve essere circondato da molecole di solvente che non ti permettono di reagire con gli altri. Perché se io sono un addotto e incontro 100 addotti, immediatamente esiste la probabilità che un giorno parli con te e anche se hai queste esperienze, è la fine. Si comincia a capire te. Allora chiediamola all'altro. Allora chiediamola all'altro. In 5 secondi l'umanità capisce che è il sottotiro dei reali. Invece se te ti sbatti con una società in cui gli altri vivono in un contesto di non comprensione, è chiaro che te pensi che gli altri siano tutti così e che quindi tu sia l'unico matto. Quindi ecco che l'addotto viene introdotto in una società in cui te non devi parlare con gli altri, non ci deve essere considerazione. C'è poi l'aspetto madre-figlia, addotta. La figlia, addotta, vede la madre come un nemico. La mamma gli dice, mamma, anche quando ha 40 anni la figlia, te non vieni mai quando io ti chiamo, non mi aiuti mai quando io ho bisogno di te. E questo accade perché la bambina piccola quando viene ripresa e grida mamma, mamma, non si rende conto che la mamma non può venire perché lo spazio-tempo è bloccato e la madre sta subendo. La stessa cosa che sta subendo la figlia in quell'istante. La figlia, la madre, verso la figlia vede l'immagine di sé, vede quello che sta succedendo a sé e siccome rifiuta quello che sta succedendo a sé, rifiuta la figlia. Il rapporto tra il maschio e la femmina. Solente la femmina, per esempio, addotta e il maschio no. Ci sono tre possibilità. Il maschio si comporta in uno stato sempre di divisione perché il maschio se ne accorge che sono venuti gli alieni e hanno preso la femmina di notte e lui pensa perché lei sia me no? Cosa c'ho io di meno, egoico? E non accorgendosi di questo fatto vive una realtà conflittuale con la propria partner in cui l'ego maschile cerca sempre di dimostrare che il maschio è più bravo e di diminuire la femmina, di diminuire la femmina. Oppure il maschio vede l'alieno e pensa dentro di sé. Non sono in grado di proteggere la mia famiglia. Quindi il maschio cade in depressione. Anche in questo contesto il processo finale è sempre un processo separativo. Oppure il maschio il maschio, terzo atteggiamento, porca puttana e se prendessero anche me, ancora il processo di separazione, il maschio scappa. Questi sono tre aspetti fondamentali. Ce ne sono infiniti, ma questi sono forse i più importanti che abbiamo visto. Quindi da questo punto di vista guarire dall'alieno, cioè prendere consapevolezza di sé e acquisire coscienza di sé, irrimediabilmente produrrà un'armonia interna che produrrà a specchio esterno nell'ambito familiare un'armonizzazione nuovamente dei rapporti familiari. Quindi molte delle... E qui si vede una cosa fondamentale. Statistica alla mano. 95% di tutte le famiglie in cui lei o lui ha fatto il percorso dell'adduzione ed è uscito in qualche modo dall'adduzione ed ha acquisito consapevolezza di sé, mentre il partner non ha fatto e si sono separati. 95% se sono di più. Le famiglie in cui sia lui che lei, tutti e due adotti hanno fatto insieme il percorso di acquisizione di consapevolezza, sono rimasti insieme e vivono felici e contenti. Questo vuol dire qualcosa. Buonasera a tutti, io sono Anna. Volevo mettere da parte un po' il discorso dell'alieno, parlare della... Lei dice sempre che non tutti hanno una parte animica e questo mi asco un po' di meno, perché tutti noi nella nostra presunzione, chiamiamola così, ma penso che stiamo a male, pensiamo magari non dando all'anima lo stesso significato che diamo tutti, noi non ho uno stesso significato privato che cos'è un'anima, pensiamo di averla tutti. Ecco la mia domanda è, se c'è un'anima pensa che abbia una sede, perché alcuni pensano che sia nella direttura della diangola fineale e se sì, se ci sono studi scientifici a riguardo che in domani magari riescano a provare realmente l'esistenza scientifica di quest'anima, così da prendere pienamente coscienza che c'è o non c'è, non lo so. Sì, sì, capisco. No, 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 capisco perfettamente. Dunque, per quanto riguarda l'aspetto della scientificità, della parte animica, ci sono due o tre tipi di dichiarazioni. Una di Krieg, che era un amico di Watson, ha preso il premio Nobel per il DNA. A Firenze, Krieg, una decina d'anni fa, disse in una delle sue ultime conferenze di apparizioni, premio Nobel per la chimica, disse che se l'anima esisteva era all'interno del DNA. Tutti i giornali parlano di questa dichiarazione, che però venne spesa così nel vuoto, perché era solo la dichiarazione di uno scienziato che peraltro aveva studiato il DNA. Ma lui lo disse a un congresso internazionale, quindi questa cosa chiaramente fece rizzare subito i peli dell'apparato ecclesiale, perché solo la Chiesa deve sapere se c'è l'anima, dov'è, eccetera, eccetera. In realtà ci sono degli studi di fisica quantistica di un certo Hammenoord e di un certo, aspetta che fisico inglese, te lo dirò fra un attimo perché Penrose, Penrose, credo che Penrose sia all'Oxford College, quindi non è uno degli utili fisici del mondo, il quale sostiene che la coscienza, quindi parla di coscienza e non di anima, perché in questo contesto c'è molta confusione tra i termini, la coscienza sia stabilizzata in microtubuli di grandezza della lunghezza di Planck che sono situati nel cervello. E fa tutta una dissertazione su trentina, quarantina di pagine, un articolo lunghissimo, noiosissimo, in cui dice sostanzialmente che la coscienza umana è all'interno del cervello. Penrose descrive questa cosa come coscienza come qualcosa che ti fa in qualche modo muovere il corpo, non è la coscienza del psichiatra, perché per lo psichiatra o per il neurofisiologo la coscienza è l'idea più o meno sana che tu abbia utilizzando i canali percentili che tu hai del mondo esterno. Ho coscienza di questo bicchiere. Ecco, dicono così perché lo tocco, lo guardo, lo vedo, ma noi parliamo di una coscienza e di una parte animica che sono un'altra cosa, non la capacità di correlarsi con il mondo esterno, ma il creatore del mondo esterno. C'è da dire una cosa fondamentale. Sia Benrose che Hamenhoff suppongono che la coscienza sia quindi all'interno del cervello, non in una zona precisa, sparsa all'interno del cervello. Va detto una cosa, io su Evideon 3, che è un articolo piuttosto complicato, ho pubblicato alcune lastre, alcune fotografie di crani di persone che vivono tuttora tranquillamente senza cervello, cioè con la scatola cranica vuota, completely vuota. Cioè, e c'è una signora francese di cui ho preso un video di una trasmissione americana che mostra la sua lastra in video, la quale ha i 45-48 anni, è andata a sconare una mal di testa poverina, è andata a farsi una lastra e il dottor gli ha detto, ma scusi, ma lei del cervello non c'è niente. Giulio, guarda, per vedere ci sono c'è la bibliografia, c'è l'entrata e c'è l'entrata. Ma piccolo o niente? Ah, no, niente, bu bu, liquido, c'è la sola acqua, quindi c'è una macchia nera. E la signora non se ne era mai accorta di annunciare i miei cervelli, perché lei aveva fatto... Si, è tremenda questa macchia. Allora cosa gli faceva male, scusa? E gli faceva male la testa. L'acqua. L'acqua gli faceva male. E mi chiedo, dove siano i microtumori di ameno? Sono molto piccoli. Allora, capite, queste sono le cose scientifiche. In realtà in ipnosi viene fuori tutta un'altra storia. Cioè in ipnosi viene fuori che la parte animica sembra risiedere in qualche modo, se così si può dire, al centro del DNA. E dire questo vuol dire poco. Quale DNA? Probabilmente il DNA mitocondriale. Cioè quello che la madre trasmette alla figlia, alla figlia, alla figlia, alla figlia e così via. Quindi quello che noi vedevamo, infatti, nella realtà, è che in una famiglia di addotti era la madre che produceva nei figli l'informazione di essere o non essere animico. Quindi la femmina era sempre animica, il maschio qualche volta. Questo tornava. Torna anche con quello che c'è scritto nel mito. Perché nel mito, sostanzialmente, anche nel film di Dan Brown, che è stato un po' perpeggiato dalla Chiesa, ma la Chiesa non ti dà l'idea del perché gli sta sulle palle del Brown. Perché sostanzialmente in quel film si fa vedere come il Gesù avrebbe avuto dei rapporti carnali con una femmina terrestre e poi sarebbe fuggito in Francia dando origine alla stirpe dei re di Francia, cioè alla stirpe dei Merovingi. Tutto sotto l'egida del Santo Graal, cioè del sangue reale, del sangue reale che poi è dato origine ai re di Francia. Tutta e coi città dei francesi. I francesi hanno il re di Francia, gli americani avevano Superman, il Nembo Kid, che è la rappresentazione del Gesù americano. Cioè il babbo di Nembo Kid è Jorel, cioè Giove Ra Helios, non so se ci avete mai pensato. Superman ha questa S che vuol dire, no Superman, ma è il DNA, lo vedete. È vestito con i colori blu, giallo e rosso, che sono i colori delle anime e dello spirito. lui muore e risorge, ha una famiglia terrestre che non è la famiglia sua, lotta contro il male, fa i miracoli. È Gesù, il Gesù americano. Gli americani ce l'avevano con gli ebrei perché gli ebrei dicono che Gesù è venuto da noi, non dagli americani. Gli americani avevano bisogno di un Gesù loro e si sono impiantati un frumento. Quindi vedete come questa cosa del mito ritorna. Quindi la parte animica sarebbe all'interno di questa zona del DNA mitocondriale. Dove? Dov'è che il mito accenna la presenza di anima? All'interno del DNA. È la spada che il diotot ha donato all'umanità e che dentro di sé ha le informazioni dell'immortalità. La spada del diotot è quella cosa che sta all'interno della figura del caduceo, dove il caduceo è la rappresentazione della Kundalini, cioè dei due serpenti maschio e femmina, che in realtà sono la rappresentazione antica del più moderno DNA. Non so se ci avete fatto caso, nella rappresentazione della Kundalini gli serpenti si incontrano quattro volte, non tre, non due, quattro, rappresentando le quattro basi puliniche e pirimidiniche del DNA. Alla fine ci sono le due codi del serpente e la punta della spada, che sono tre radici, che sono i tre monti o i tre mondi del mandala indiano, perché il mandala è la rappresentazione sempre dello stessa cosa che è però la fontana della vita eterna, che gli alchimisti del 1700 facevano a quattro piani e sopra ci mettevano sempre Hermes Trismegisto con le alette e le orecchie che volava. La raffigurazione è sotto i pianeti, sotto i pianeti, e queste tre pallette sono i tre mondi o i tre mondi che sono poi sostanzialmente spazio, tempo ed energia. Nella rappresentazione del mito la parte animica sarebbe all'interno, ed è all'interno di un DNA mitocondriale, perché avendo anima una certa vibrazione, che in Hertz corrisponde a 8,13 Hertz secondo i calcoli di Evidio, se non mi ricordo male, perché 9,63 è la frequenza dello spirito e 11,22 è la frequenza di mente, questa frequenza può stare all'interno del DNA mitocondriale solo se esista una ben precisa sequenza di basi piriniche e pirimidiniche, cioè i gradini del DNA sostanzialmente. Se la frequenza non è giusta, la parte animica dentro di te non ci entra. Noi all'inizio credevamo che la parte animica scartasse dei corpi, questo non va bene, questo non va bene, questo non va bene, perché poi in fondo in ipnosi ti diceva così, ti diceva così. In realtà non è neanche vero che c'è l'80% di persone che non ha anima, c'è l'80% di persone che non è anima, il che è un po' diverso, perché noi è come se avessimo un parcheggio di 100 automobili, in questo parcheggio sono occupati solamente 20 posti, ma questo non vuol dire che in futuro non possano essere occupati anche gli altri 80, in altre parole, noi, siccome l'universo è a specchi, è affatto a strati, a livelli quantici, sette livelli, di sopra, al sesto livello, si scende, chi siamo noi? Noi siamo quelli che hanno avuto il coraggio di scendere per fare l'ultima esperienza della separazione, più si scende, più si separa. Di tutti quelli che siamo scesi, 100, perché 100 sono sopra, quindi 100 a specchio vengono sotto, 100 posti di macchina. Bene, di questi 100 posti di macchina, 80 macchine non hanno voluto scelte, non sono volute scelte, perché? Per due motivi fondamentali, che sono lo stesso motivo. È una cosa un po' teorica, però vediamo se riesco a spiegarla bene. Alcune parti animiche sostanzialmente hanno avuto paura di fare o non gli è stato permesso di scendere per fare l'esperienza della separazione, perché siamo qui per vivere e per morire, quindi per comprendere che cosa vuol dire definitivamente cominciare e finire. E la parte animica deve fare questa esperienza perché è all'asse del tempo infinito. Ma è anche vero che molti soggetti qui, del tutto maschili, del tutto spirituali, del tutto mentali, non hanno voluto essere portatori della parte animica, perché sostengono che la parte animica è sostanzialmente quella parte femminile che li metterebbe in disagio. Se voi analizzate sostanzialmente questo fatto e lo dividete dualmente in causa ed effetto, scoprite che in realtà non è la parte animica che non è voluta scendere, se non anche che molti di noi non hanno voluto accoglierla. Quindi la parte animica non entra in un posto in cui nessuno ce la vuole. E se voi analizzate questa cosa da un punto di vista della socialità di oggi, scoprite che la società nostra è una società del tutto maschile, dove chi governa, il prete di turno, è maschio. Non ce la vuole la femmina fra le palle a recitare la messa. Il governo è fatto di maschi. Sì, ma ci sono delle femmine. Ah sì, è vero, delle femmine, non delle donne. Noi abbiamo un governo fatto di femmine, non di donne, cioè di quelle femmine che per passare comunque in un governo devono fingere di essere maschi, cioè fanno la brutta copia del maschio. Allora quelle sì, quelle ce le vogliono, perché comunque lì dentro comanderanno sempre i maschi. E non esiste. Quindi tutte le civiltà che noi abbiamo, non voglio parlare dell'Islam perché sarebbe sparare con un cannone su una farfalla, ma capite bene perché noi abbiamo questo retaggio. Ce lo portiamo dentro, come nel nostro DNA, perché quelli del Piau di sopra, che sono quelli che contano, gli angeli della New Age, in qualche modo sono sostanzialmente maschilisti, sono collegati a una parte animica che trattano a calci nel culo la mattina e la sera, perché hanno paura da una parte della divisione, cioè di perderla, e dall'altra parte di unirsi alla parte animica perché hanno paura, la parte spirituale loro, di perdere la propria identità. Ma noi sappiamo che uno che ha paura di perdere la propria identità è uno che non ha identità. Cioè ai suoi tempi il poverino Bossi aveva paura degli estracomunitari e aveva paura dei gay, perché sostanzialmente lui aveva paura di essere gay e di non capire un cazzo. Paura direi confermata. Per cui ecco che la parte animica, mi sono dilungato troppo in questa risposta, ma era secondo me l'esame, la parte animica se esiste, tutti la possiamo recuperare. Nel triade color test, chi vede le due sfere, la sfera di spirito e la sfera di mente, guarda in giro e guarderà fuori e fuori dalla stanza della simulazione mentale, troverà la sua sfera di anima, che la può convincere a scendere e si scopre che la sfera di anima dice no, 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 io non voglio scendere dentro, non ci voglio entrare, dai, vieni 5 minuti, poi semmai, no, non gli direi 5 minuti perché non capisce, vieni un attimo, questo lo capisce, poi guarda come stai, semmai poi, voglio dire, quando è entrata dentro ti hai recuperato con la tua parte animica, te non hai idea del giorno dopo come ti sei? Grazie. Prego. Allora, la mia domanda era legata alla questione, diciamo, soldi, dovevi parlare prima. Se viviamo in un mondo che, diciamo, è stato creato sia da noi che da altri pensieri di altre persone, per cui, per avere, diciamo, un qualsiasi tipo di bene, per esempio se non c'è soldi, qualcosa di materiale da comprare, cioè saremmo comunque intrappolati in questo, cioè in questa gaffia, quindi l'unico modo che vedo io per liberarci sarebbe quello di fare tanti soldi, però da una frase che mi hai detto prima, sembra che chi faccia tanti soldi favorisce questo sistema, una cosa del genere. Dunque, sì sì, la domanda è sicuramente molto impegnativa e importante. Allora, gli studi che sono stati fatti da un punto di vista scientifico, che sono stati pubblicati recentemente, sono dell'anno scorso, su riviste di economia internazionali, hanno misurato le bolle inflattive, chiamiamole così, di speculazione degli ultimi anni e hanno misurato con formule che sono formule del mondo della finanzia, la relazione che c'è tra l'entropia del sistema finanziario e l'andamento di queste bolle finanziarie. E hanno scoperto, i dati sono chiarissimi, sono in rete, c'è un netto abbassamento dell'entropia in quel contesto. Cosa vuol dire? che localmente l'entropia si abbassa, cioè vuol dire che noi stiamo facendo qualche remando contro l'universo. Questo ha un significato preciso, tra parentesi, perché al di là delle formule che sono piuttosto complicate dell'aspetto economico che descrive tutto questo, in termini entropici, c'è da ricordare una cosa fondamentale, che cosa vuol dire disordine e che cosa vuol dire ordine. Perché la confusione è veramente un casino. Ed è un casino anche all'interno degli stessi docenti universitari che scrivono delle cazzate allucinanti. Io ho trovato, ho citato anche nel mio ultimo articolo, un esempio preciso. Uno studente, che è un'unità di Ferragolo, non mi ricordo dove, sostiene, in una lezione fatta all'università, che il disordine aumenta sempre. Infatti, se noi prendiamo un sacchetto di biglie colorate, giosse, gialle, verdi, arancioni, che sono tutte le rosse da una parte, tutte le gialle da una parte, tutte le verdi, tutte le arancioni, mettiamo un sacchetto e poi agitiamo il sacchetto, ecco che si crea il disordine, perché tutte le sfere si sono mescolate tra di loro e dice chiaramente non si torna indietro, quindi l'entropia va in una sola direzione, cioè aumenta l'entropia, cioè il disordine. No, non ha capito un cazzo questo studente qui. Quello non è il disordine, quello è l'ordine, perché da un punto di vista simmetrico, e la simmetria è l'unica cosa che conta nell'universo, il colore si è omogeneizzato, cioè mentre prima avevi solo il giallo, solo il rosso, solo il verde e solo il blu, ora hai tutto l'amarambito, faccio per dire, perché le parti che si sono messe insieme. Quindi sei andato in un percorso in cui la simmetria dell'universo è aumentata, quindi è aumentato l'ordine, no il disordine. Punto numero uno. Questo cosa vuol dire? Se noi facciamo finta che queste pallette siano i cittadini e ci siano cittadini che hanno tanti soldi e cittadini che hanno pochi soldi, quando rimescono il sacchetto i soldi vanno dappertutto. Quella è l'entropia, non quando stranamente qualcuno vuole prendere dei soldi e portarli sia a sé, e questo siccome i soldi sono contati, sono sempre gli stessi, perché il nostro universo è un universo chiuso, il universo chiuso prevede che non ci sia scambio con l'esterno di materia, se non di energia, ma di materia. No. Quindi i soldi sono, c'hai 100 dollari e c'hai 100 persone vuol dire che ognuno c'ha un dollaro. Quello è lo stato entropico più basso, scusa, più alto. Quando c'è di queste 100 persone una persona che ha 100 dollari lui, le altre 99 persone non c'hanno niente, questo è uno stato entropico basso, perché hai semplicemente, non è un problema etico, dissimmetrizzato la situazione, hai creato dissimmetria, l'universo si va verso l'entropia. Quindi da un punto di vista puramente tecnico, siccome l'entropia dell'universo aumenta, chi cerca disperatamente di creare dissimmetria nel mondo finanziario, sta facendo una operazione che è il contratermodinamico, quindi finisce per forza per fallire. Non è che sono io che dico eticamente vorrei che tutti stessero bene, stessero male, tutti poveri, come dicevano i comunisti, oppure tutti sono pochi ricchi, quelli che se lo merita, come dicevano quelli di là. No, io dico, anche se non mi importa niente, le cose andranno in una direzione che è quella di spalmare su tutto l'universo la stessa quantità di denaro e non c'è niente da fare. È così, se noi vogliamo dare all'entropia un significato morale che non ha senso, la morale va in quella direzione. Quindi è giusto pensare una cosa fondamentale, che chi sta facendo questo sta facendo qualcosa che va contro la sua coscienza, perché noi siamo i creatori dell'universo. Se te non capisci questa cosa vuol dire che stai, non hai coscienza di te e stai facendo una cosa che si chiama speculazione. E la speculazione nel mondo finanziario è un processo normale. Sì, noi cosa facciamo? Gli speculatori. Cosa disse Tronchetti Provera quando era capo della Telecom e se ne andò? Ma lei sta buttando fuori degli operai, ma lei ha fatto questo, ma lei ha fatto quell'altro qualche anno fa. E lui rispose al regionale, ma io sono uno che deve fare i soldi, chi se ne frega degli operai? Lo disse non così in questi termini, ma quasi. E si capiva perfettamente, io sono uno che specula. Questo è il mio lavoro. Cosa fa lei? Lo speculatore finanziario. Ti dicono così, bellissimo, questo è il tuo lavoro, però sappi che stai facendo una cosa che non ha coscienza. Quindi il fatto che non abbia coscienza vuol dire che non è una cosa sbagliata o giusta, è una cosa che non funzionerà, che non andrà avanti e che chi fa quattrini ora, dice, ma io poi, si troverà nella merda fa cinquant'anni, io dopo cinquant'anni sono morto a me che me ne frega. Certo, te sei morto, ma i tuoi figli che sono te stesso saranno nella merda. Se tu non hai consapevolezza di questo, è chiaro che il poverino continua a fare i soldi, non c'è nessun problema. Il problema è tu, la tua consapevolezza è quella tua. Nel passare, quindi, quello che succederà è sicuro, certo, che la società andrà verso, prima o poi, una equalizzazione del denaro. Quando il denaro sarà sparso dappertutto nello stesso modo, non avrà più necessità di esserci, perché tutti saranno economicamente la stessa cosa. Cioè le coscienze si saranno poi equalizzate. Sostanzialmente è una misura coscienziale, sostanzialmente la quantità di denaro che ti hai. Meno denaro hai e più cosciente tendi ad essere, sostanzialmente. Quindi bisogna prepararci a fare questa cosa. Facciamolo subito, non ci permettiamo 6 mila anni, perché più fai il percorso lungo, più il percorso è doloroso. Allora, se si sa tanto che si finisce così, che i soldi non ci saranno più, che chi fa soldi è uno speculatore, che non ha consapevolezza di sé, mettiamoci subito nelle condizioni di creare quello che sarà in un futuro prossimo il mondo felice. Chiaro che domani mattina te devi andare a mangiare, hai bisogno di comprarti da mangiare. Cosa voglio dire con questo? Che innanzitutto te crei dentro di te quelli che sono i presupposti per il mondo felice, lo crei dentro di te. Sai esattamente che non c'è bisogno dei soldi. Fuori, avverrà innanzitutto in automatico, primo aspetto della questione. Il che vuol dire, teoricamente nella realtà virtuale da mio punto di vista si passeranno diversi step. Uno di questi step è sicuramente il passaggio che tanti odiano attraverso la moneta elettronica, cioè nessuno ha più soldi. Tutti i soldi sono una carta elettronica. Con la carta elettronica, innanzitutto, i mafiosi sono costretti a pagare le tasse, che non è male in Italia, perché noi credo che se i mafiosi pagassero le tasse noi saremmo il paese più unico della galassia del mondo. Gli americani manco li vediamo, perché almeno 200 miliardi di euro all'anno, questo è il budget, 200 miliardi di euro all'anno è il budget della situazione mafiosa in Italia. Ve lo dico subito. Con la tarchetta, con la carta di credito, o quello che è, te cominci a imparare che i soldi non ci sono più, non li maneggi più. Sai che te hai un valore, ma che questo valore non dipende dai canoni che oggi hai, cioè te fai l'operaio, guadagni 600 dollari al mese. Io faccio l'imprenditore, guadagno 4 milioni al mese. Questo è quello che oggi si dà come significato ai soldi. Io valgo di più perché guadagno di più. No, siamo tutti uguali. Te guadagni come l'operaio, o l'operaio guadagna come te, o tutti e due guadagnare imparati intanto a guadagnare la stessa cifra. Ma io sono un imprenditore che ho fatto questo, questo, questo e quest'altro, lo sai fare il contadino? No, vedi, ma non sei fai il contadino, sei un coglione. Perché è giusto che il contadino non sa fare il imprenditore, ma vedo che te non sai fare il contadino. Eh, ma chi se ne frega del contadino? Il mio lavoro è più importante. Davvero? Allora facciamo una cosa, te da domani non ci sei più. Il contadino c'è. Vuoi vedere che io mangio lo stesso? Perché il contadino che mi porta da mangiare, mica te. Te porti da mangiare a te stesso. Eh, è semplice. Si fa il discorsetto della zazzà, ci metti una crocetta sopra, eh, vedi, cosa si fa? Te non ci sei più domani mattina. Eh, ci sono dei politici, per esempio in Italia, ce n'è uno, un certo risco, mi sembra che sia, mi sembra che prenda di pensione 77 mila euro al mese. Non voglio dire una sciocchezza, mi sembra che sia lui. 77 mila euro di pensione al mese. Ce n'è un altro, ce n'abbiamo un altro, a Lucca lo chiamano, il dottor Sottile. Prende 33 mila euro al mese di stipendi. Cioè, eh, 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 perché? Perché io valgo? Cioè, no? Scusa, eh? No, no. Cioè, allora con la tacchetta sai che te prendi questo e te prendi questo, perché qualsiasi tipo di lavoro ha la sua dignità di essere. Quindi, innanzitutto, te devi sapere che non è lo Stato che ti dà i soldi, ma sei te che mantieni lo Stato, che è fondamentale. E poi tutti manteniamo lo Stato, benissimo. Un altro dei concetti fondamentali, che a me piace tanto, che pensano che sia illusorio, è nel contesto economico chiarire una cosa fondamentale. Siccome si deve acquisire la consapevolezza e la coscienza, ma nel frattempo si passerà in un periodo intermedio, che dovrà 100, 200, 300, non credo di più, 400 anni al massimo, in un periodo in cui grossa quantità, come si diceva prima, di persone che non hanno voglia di lavorare, e siccome io penso che il lavoro deve essere un piacere, perché l'uomo non è fatto per lavorare, l'uomo è fatto per divertirsi. Quindi devi andare a lavorare solo se ti diverti. Si fa così. Vanno a lavorare solo quelli che si divertono e mantengono a casa, che non rompono i coglioni, quelli che non hanno voglia. L'80% sta a casa. Sai che bellezza, come funziona tutto bene, te vai a lavorare, ti diverti, mantieni anche gli altri, che nel frattempo, dicono, panca puttana, e guardando te, si specchiano in te e dicono, ma forse sarà meglio che vado a lavorare anch'io, perché poi il lavoro, se lui si diverte, perché, scusa, cazzo, allora posso divertire anch'io. Passiamo 200 anni a lavorare e noi ci divertiamo. Il mio lavoro era divertente. Io mi facevo un culo della Madonna, lavoravo 12 ore al giorno e lo facevo con piacere, perché era bello. Quelle sono le persone che devono lavorare. E c'è posto solo per quelle. Così non c'è neanche bisogno di trovare posti di lavoro. Gli altri li manteniamo con il nostro lavoro. Mi sembra un'offerta intelligente. Mano a mano che il tempo passa, la posizione di coscienza aumenta e tutti vorranno partecipare. No? Scusa, noi abbiamo una famiglia in cui ci sono un babbo, una mamma e 12 figli. Il babbo e la mamma lavorano e i 12 figli, no? Ma quando i 12 figli diventano grandi, lavorano anche loro. E essere figlio vuol dire non avere consapevolezza e coscienza. Cresci, hai coscienza e partecipi anche tu alla società. Ma ora che non c'è la voglia di lavorare, che mi rompi i coglioni, che mi fa le carriere al posto mio, state in casa e non ve lo farei padre. No? Non è meglio. Grazie. Bene, grazie. Le cose da dire sono tante. Non subissatelo più di tanto, più di quello che gli impiazza è ricevere. Ciao, grazie a presto.